Voilà! Guarda Panditz, ho una cosa da farti vedere. L'ho chiamato Panditz. Vedi, è incazzatissimo adesso. Però lo puoi girare e diventa felice. E niente. Buonasera! Ciao! Che carino Panditz! Sì, è veramente bello! Poi guarda, cioè appunto adesso è felice, però io di solito lo lascio sempre così incazzatissimo, perché Panditz è furioso e arrabbiato. Panditz, se hai già creato il party, tieni il mod. No, niente. L'hai perso. Hai perso il mod. Crea tu il party, Panditz. Cioè, visto che tu devi giocare, dobbiamo... cioè, sei tipo il capo supremo. Crea tu il party. Voilà! Ciao G-Shadow! Giovanni Lollo, richiesta d'amicizia. Rifiuta. Baroni Giulio, accetta. Arni, rifiuta. Eh... Sneytrade. Non te l'avevo mandata io. Accetta. Vincenzo, rifiuta. Perfetto! Ciao, Davidotti! Eh, Davidotti, sono tornato main mirage ieri, quindi sono tornato a farti competizione come main mirage più forte della storia. Non so con chi volessi giocare. Ma se ieri... ma stai trollando. Cioè, boh, ieri Panditz mi ha scritto, oggi ci sono, e io gli ho scritto... cioè, lui mi ha scritto, domani ci sono, io gli ho scritto, ah, bello, ok. Eh, cioè, ehm... era un... sì, ciao. Ah, proprio un party privato, Antonio Traic, Uo e Nico. Sam mi ha riscattato leggenda casuale. Eh... Ehi, Siri? Ehi, Siri? Dammi un numero da 1 a 24. Un numero casuale? Tra 1 e 24 fa 3. Ash! E... tipo... no, ok, godo. Invito Davidotti, secondo me è la scelta migliore. Allora, secondo me, se devo essere sincero, non è la scelta migliore, però... Ciao! No, dicevo, secondo me non è la scelta migliore. Cioè, tipo, ci sarebbe, boh, ACU volendo. Cioè, ci sono scelte, secondo me... Ma, è scelta PC... Eh, vabbè, facciamo lobby mista. Però, vabbè, anche Davidotti va bene. Come ripiego? Però sto tagliando nel nostro nuovissimo mondo di Minecraft, quindi non lo so. Ma, più che altro, Davidotti mi vuole rubare il main. Ma no, Davidotti è diventato main in una... qualcos'altro. Era main Newcastle l'ultima volta che abbiamo giocato. Se ricordo bene. Cioè, avevo usato Newcastle, era andata veramente bene. E tu usi l'oba al tuo main, o no? Eh, ma... Sono indeciso tra Catalyst e l'oba. Eh... Secondo me è l'oba. Cioè, sei main l'oba. Però su Catalyst hai le 20 bombe. E allora, boh, usa Catalyst. Cioè... Però Catalyst non ha un Heirloom, cioè... Ash invece? Schifo. Ma come? Cioè, cosa intendi? La leggenda in sé o l'Heirloom? Non ho Ash dei Pokémon. Ah, no, uso solo Charizard. Beh. Che schifo. No, che schifo Charizard. Minchia veramente mainstream, cazzo. Blastoise è molto, ma molto meglio. Sì, cioè... No, però va bene. No, Blastoise fa veramente cagare. Ma dove? Ciao, dem... Demulat. Eh, però io, Nico, non so tanto ben giocare, perché non gioco da un bel po'. Eh beh, sei diventato main Minecraft, ci sta. Cioè, eh... Ho fatto una partita ieri, proprio una di me ne ero vinta, me ne sono andato. No, a... In pubblico o in ranked? Pub. E allora sei veramente forte, perché le pub sono la modalità più difficile. Davvero? Sì, che mi ha restato alla fine. Mi sono fatto l'1v2. Beh, ma allora hai cariato tu se hai fatto l'1v2, scusa. Sì, che sono io. Eh no, è la care sotto me. Ah. Se qualcuno mi invitasse. Eh, prova a chiedere... Prova. Cioè, sì. Eh, ma questo è un avversario, seriamente. Ma? Dove cazzo mi ero bloccato? Cioè, la scatola... Ma l'hai messa tu quella scatolina? Veramente antipatica. Mi volevo muovere a destra. Invece niente. Sì, che ora? Eh, Davi... Davi Dottiz. Ma... Più che altro... Perché leggenda? Perché devo fare leggenda casuale su controllo? Cioè, non vedo il senso. Dimmi lo tu. Eh, non lo so. Te l'ho chiesto io prima. Cioè, non vedo veramente il senso, però... Io lo farò lo stesso. Boh. Eh, sì, devi... Ah, ok, eccolo. Ma è lui nella fotoprofilo? Ciao. Ciao. Ah, non stavi salutando me. No, stava salutando me. Ma no, tu stavi salutando me. Ah, sì, io stavo salutando te. Eh, lui stava salutando me, però. Ah. Eh, ma io non lo sento. Non lo senti? Vabbè. Sai che ci mette qualche mezz'oretta a caricare l'audio? No, a me ha caricato subito. Ah, a te ci mette qualche mezz'oretta a caricare. È vero? La doppia! No! Ho quasi fatto una tripla banditza. Incredibile. Quante cazzo di barriere hanno messo? Troppo. Beh, ma più di una romperta per sport. Eh sì, sì, beh sì. Almeno c'è una va. Almeno due. Oh, ho il portale per la prima volta. No, Reb. Poveretto. Fa' il culo, c'è uno Watson. Sì, beh, insomma. Eh. Il portalozzo è molto buono. Ciao, Davidotti. Pensavo fosse là dietro, ti giuro. Cioè, l'audio mi ha... L'audio mi ha trollato. No, pandezza. 174 blu. Che triste, però. No. Eh no. Quindi ha tre di vita? No, uno. Cioè, ha... Sì, esatto. Ah. Eh, ma già ho aperto uno. Eh no, ho sbagliato... Ho sbagliato i conti. Ma sei trollato. Sì, mi hai scoperto. Io sto facendo una challenge impossibile, comunque. Cioè, allora, la challenge è cerca di legare uno con l'Eli 1 di Ashe. Ma ti è crashata la lobby? Sì. Perché a me è crashata la lobby. Anche a me, mentre solo per buttare una carabinatura. No, io invece ho una termite in mano. Proprio mi sta per scoppiare. Ma pure ieri mi è crashata... Pure ieri mi è crashata una controllo. Secondo me c'è un... Sì, mi ricordo. C'ero. Io ero nella controllo. No, non è vero. Secondo me... Sì, sono io che ti ho dossato, anche adesso. Eh, ma secondo me c'è un modo nuovo per dossare tipo le partite? Perché mi succede tipo ad ogni partita? No, ti ho fatto due partite su controllo e le hanno dossate entrambe. Cioè... Ma non è che ti la dosso, non è colpa di Davido Otti che non ha fatto il portale del Lendo. No, ho fatto due partite... Due partite su controllo e entrambe dossate. Non c'è... Mi perdoni? No. Ok. Nico, cosa ne pensi? Oh no! Una persona che su Minecraft, dopo cinque giorni nella vita reale, non ha ancora costruito una casa. Vabbè ci sta, fa tipo... Cioè... Io di solito mi facevo il buco sottoterra e ci mettevo il letto per far passare la notte. Cioè non hai bisogno in verità di una pista di mora su Minecraft. Sì, ma mentre lui ha... In realtà sì, abbiamo tutti. Io sono... No, cioè... Ok, eh sì. Lui non ha una casa, cosa ne pensi? No, più che altro è molto antipatico, immagino per voi. Magari quando dovete dormire la notte, che dovete sempre ospitarlo. No, poi sono in culo al mondo io. Eh, cosa ne pensi? Di due che fanno la casa vicini e poi un altro che se ne va in culo e lupi per farsela lontanissima. Ma i due che l'hanno fatta vicini, chi sono? Eh, l'io e Marika. Beh, vabbè, gli hanno voluto lasciare un po' di privacy. Ma c'è anche Edo che si è infilato tipo in mezzo tra me e lei, tipo... Veramente una mossa antipatica però, eh. È una forma di pe... Cioè ha un botto di pecore che vorrei uccidere ma non me lo permette. No, veramente... Non lo so. Ma ti conviene usare la tecnica Dracor che praticamente durante la notte, quando nessuno se l'aspetta, tu prepari un sistema di tunnel sotterranei con cui poi procederai al griffing. Sì. Le rapisco. Sì, sì, sì. Ottima idea. Grazie, grazie, grazie. No, grazie a te. Ma tranquillo. Io nell'ultimo server di Minecraft su cui ho giocato avevo fatto una casa sull'albero. Molto bella. Sull'albero tipo quelli della giungla, quelli altissimi da quattro. E avevo fatto la casa sopra, la casa sull'albero. Era molto bella. Cioè... Non ci credo. No, no, ti giuro, sì, sì. Era molto... No, ma ti credo. Grazie, sì, lo so. Cioè, alla fine non era niente di... Cioè... Nico, cosa ne pensi dei 20 pacchetti di Apex a mille monete? È un'offerta molto buona. Però, cioè, ormai la mettono una volta al mese. Ma perché adesso... Eh, ma perché secondo... No, quella che mettono una volta al mese ha 12 pac... No, ma pure questa ormai la mettono sempre. Però, boh, secondo me sei molto vicino al cimelio, tu. Eh, sì, infatti sono tentato di prenderla. Sì. E... Code Cloud. Eh, mi hai crashato. Anche a me. Cavolo, eravamo... Eravamo giusto arrivati a 30 persone su 60. Raga! Dopo essere crashato ho completato la sfida del Mastiff. Ehm... Bravo, Nico. Sì, grazie. Eh, so crashato, sono tornato in lobby e sfida del Mastiff completata. Devo dire niente male, grazie. Grazie. Beh, devo dire che dopo questa bella mezz'oretta di gameplay abbiamo giocato veramente tanto. Sì, 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 sì. Veramente divertente, Apex Legends. Eh, ho penalità per abbandono. Penalità per abbandono di un membro del gruppo. 2 minuti. Ragazzi, io direi che si può disinstallare Apex e andare su Rocket League. Minecraft. Cioè, ma c'ho appena dato la penalità. Perché? Ok. Perché sei abbandonato. Ma abbandonato qua? Ma no, ma... Sì, ma... Ma se io abbandono... L'esperienza di gioco. No, è imbarazzante. Ma è solo Pandiz la data, io posso giocare. Ma perché? Eh, c'è, sì. Grazie Evergarden per il raid. Ma che mafia, ma questa è mafia. Grazie, grazie per il raid. Grazie. Ehm... Comunque dicevamo... Com'è sta cosa? Cioè, eh... Ah no, ora l'ha data anche a me, in verità. Sì, ma... Perdonami, ma ci ha dato la penalità che ci ha crashato... Ci ha crashata la lobby prima di entrare in partita. Io non ce l'ho. Ma secondo me è per la controllo. Eh, ci ha dato la penalità perché ci hanno addossato il server di controllo. Cioè, ci hanno addossato il server... E può essere che adesso che siamo ricrasciati è perché è finita quella controllo lì. Eh sì, ho capito. Ma ci hanno dato la penalità perché ci hanno addossati su controllo. Comunque fidati, io sono sicuro c'è un modo per addossare le controllo. Eh, perché lo fa... Ma pure i diri... Perché c'è la mamma puttana e boh, le vuoi vincere. Perché pure ieri c'è successo. Ma eh sì, le vince poi. Eh vabbè, niente. Hai vinto la controllo, eh. Lo fai in ranked, lo fai in pub. Ma perché secondo me il ranked in pub non funziona. Secondo me funziona solo su... Funziona solo su mixtape, secondo me. E c'è un bug per far crashare le partite mixtape. Perché è successo già due volte, non può essere. Due volte su due. C'è due volte su due che ci caccia dandoci 100 packet loss. A sto punto pure ieri ci aveva dato la penalità ma eravamo già entrati nella partita dopo e non ce l'ha contata. Ma pure è una cosa che secondo me è ancora più... Più... Per la realtà, cioè, dei fatti. Perché alla fine, secondo me, è il gioco che è un po' un gioco di merda. Ma sì, potrebbe anche essere, potrebbe. Nick, ti ho superato il ranked. Grazie. Ciao, Brombi. Cioè sì, io in verità le ho giocate solamente ieri. Sono stato via per 12 giorni. Però, eh... Grazie. Ma voi quante partite avete su season? E... 90, tipo. Non è il vero. 95, ti giuro. Davvero? Sì. 186. Sì, sì. Aspettami, devo soffiare il naso, quindi toglierò... Cioè, tolgo la camera e non l'audio perché... 15, cioè... Ehm... Quindi ci partite? Puoi videochiamare mentre lo rifai, per favore. No. Ok. Oh, è startata! Dopo 40 minuti! Finalmente. Adesso muoriamo allo start. Ehm... È possibile. Hai giocato veramente molto bene. Grazie, sì. Cioè, più che altro avevo un teammate che faceva 80, 0, 150, 80, 0, 150 danni, capito? No, mannaggia. Perché ho Ash ancora? Vabbè. Chi era quello scheranzato? No, era Steaketsch. Non era uno scheranzato. Lo Steaketsch. Era Steaketsch. 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 Non mi prendono mai sul serio. La ste steaketsch. Sono troppo veloce. Sì, però nico che la trolla, dai. Ma perché? Ma cosa? Ma dai, ma dai. No. Ma dai. Ah, perché Ash? Ma è il mio nuovo main? Ah. G4B Red Bull. Qual era? Ci credi che provo Apex da Nintendo? Ma vabbè, anche io l'ho provato. Per due partite. Ma poi siete salvati con quella safe. Mamma mia. Qui in Olympus. Come si dice? Proprio per il rotto della cuffia. Non ce la facciamo, niente, niente, niente. Non ce la facciamo. E vabbè, ma... È vero, è vero, è vero. È vero. Ma è là con lui? Non ce n'è nessuno. Nessuno proprio? Nessuno. Cioè, proprio nessuno, nessuno, nessuno. Nessuno. Zero? Ci siamo noi. Nada? Nisba? Nulla? Nothing? Nothing. Nothing. Vabbè, comunque con Ash... Uh, pischi per dorato. Con Ash sembra sempre di essere crashati. Perché, cioè, col C meglio, cioè, perché io ho il C meglio e quindi corri dritta col C meglio. Ah, anche mortal. Vedi, corri dritta. Minchia, ti sembra sempre di essere crashato quando giochi Ash col C meglio. E invece... Ma proprio nessuno. Ma minchia. E allora... Minchia, c'è un'Italia perché quanto è alto. Rispetto a Minecraft? Eh, sì. No, più che altro è quella di Minecraft che è veramente bassa. Infatti io l'ho alzata subito di molto. Quella di base di Minecraft è ingiutabile. E ti sei abituato alla sense bassa? Vabbè, no. Ma allora ti conviene raccogliere l'arco Bocek se lo trovi. Così almeno hai un'arma con cui dovresti essere abbastanza allenato. Ah, sto usando già Rampage e direi che va bene. No, cambio. Ma sì, effettivamente Rampage ricorda molto Minecraft, cioè... Eh sì, perché praticamente è di colore azzurro. Sì, un po' come il piccone di diamante. Esatto. E poi che schifo Minecraft che è diventato. Cioè per farmi la roba in nederite devo trovare roba strana. Ma io non so neanche cosa sia la nederite. Cioè nel senso... Sì, vabbè, ma quello c'è da anni ormai. Cosa da anni? Ci sarà da tipo boh un mese. No, è da... Un mese no, no. No, è veramente tanto che non ci gioco, quindi... Come si raccoglie? Fammi un tutorial dove la trovo la nederite. Eh, me lo adoro. Grazie. Grazie del tutorial. Sì. È tipo altezza 15. Ok. Comincia a scavare un paccazzo e trovi dei pezzi. E quanto è dura? Quanto è dura? Eh, tanto. Cioè, abbastanza. Non quanto... Solo diamante la puoi prendere? La sedia. Eh, sì. Ah, ok. E cosa ci puoi fare di bello? Le armature. Eh, la... Le armi? La spada, tipo? No, sì. Sì? Eh... Sì. Ah, uno in più del diamante. Che bello. Eh no, non ho mai trovato. Però il problema è che se trovi un pezzo, quel pezzettino lì non basta per fare un lingotto perché ne devi trovare quattro. Ah, ce li devi fondere. E se ne ho mai quattro di oro. Però loro ormai diventano... Come quattro di oro? Vabbè, ma l'oro, senti, dai. Cioè, sincero. Arriva l'improglione! Quella capa... Revenant. King for... Forniter. Apple Wizard. Mago... Mela. Merlino. No, mago... Mela. C'è un'esca di Davidotti. Ma perché Davidotti mi ruba il me... Io lo ho da vol. Maladax. Sono caftando. Qua? Sì. Ma io farei la mossa di Ashe, così. Aiden. Quasi craccato... Ciao, ho craccato l'Horizon. Eh, sì. Qua si scilla. Minash. Minash! Minash! Incredibile. Ho fatto Raiden. Ok. Ecco. Mamma mia. Il triplo assist di Nico. Ma oserei dire... Minash. Hai visto? Che roba? Come te l'ho scopata quella. Assurda, oh. Assurda, ti giuro. Ma... Nico, stai trollando? Ma... Mi hanno tolto Mirage, quindi io non resto. Cioè, qua è veramente incredibile. Eh, no, ma perché mi hanno riscattato Legenda Random. Comunque, L1 di Ashe, doppia Thermite. Incredibile. Ma sei fortissimo. Grazie, sì, sì. Eh, lo so, eh. E invece il Piskipper col Perfora Scudi è veramente carino, eh. Ho dato un hit al volo al Pathfinder. Gli ho fatto 120. Molto, molto forte. Molto, molto forte. Molto, molto. Eh, 120. Sì, allora, ce n'erano due là dentro e poi io ne ho sei. Quindi... Eh, se me ne puoi dare due. Sì, sì, certo. Tieni. Questa è un'ottima posizione. Ma poi volendo, volendo, non volendo, me le posso anche craftare. Sì, ma... Cioè... 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 Ma è vero. Questa cacchina. Eh, sono più facili le lobby, Tommy. Cioè, le lobby sono più facili, barra uguali, ma almeno dai punti, quindi... E poi bisogna fare il prezzo. Non è... Cioè, il motivo è quello. È più divertente giocare. Io mi sto proprio divertendo. Ma sì, ma è più divertente, guarda, è pure lobby lenta. 15 persone... Cioè, 15 persone. 15 team ancora. Bellissimo. Io sono dell'idea, Nico, che sei un team decente che pusha tantissimo, ti fai le 20 bombe easy. Sì, più facile che in pub, sicuro al momento. C'è qualcuno. Poi dipende, tanto... C'è appunto il livello de... Noccato uno, noccato uno. Non ho noccato uno, raga. Ma? Prima che lo resti, qua dentro l'ho noccato. È buono, la venga. Raga, mi serve help da me. Ok. Non ho noccato i due. Ottimo. Erano i campioni, questi. Ma c'è anche una band. Sì, c'è l'altro team, c'è l'altro team. È morto, mi sa, perché... Ah. Non lo so. No, secondo me no. Insomma. Mamma mia. Ash. In verità qua, no, è stata la Thermite. Che forti le Thermite, cazzo. Non ce ne sono. No, 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 è su... Secondo me... Secondo me le Thermite sono più forti dell'Hemlock. Ma le hai scelta tu? Con il flout puoi anche cantare host di giochi. E se le so fare? Dipende. Se sono fattibili più che altro col flout. Cos'è quello... Ma la Bangalore era il teammate loro, allora, forse. C'era solamente... Ma se non l'ho acciso da Davidotti che l'ho ucciso. Ma forse si è ammazzata con... E si è uccisa col rombo di tuono, forse sì. Cioè, essere predatore e uccidersi da sola col rombo di tuono sarebbe greve. Era guano, povera. Sì, vabbè, ho capito, però sarebbe greve uguale. Sincero, però... Non lo so. Però stiamo scendo dalla 6, fa senso. Ma no, in verità non ha senso, però vabbè, cioè... Mi sento più confident di ieri che ero con stagge c'è Bota. Cioè, più che altro... No, Bota ieri ha arato. Mi sento più confident di ieri che... Eh, vabbè. Ho fatto 40. Bota fortissimo. Bota ieri, minchia... Ma sì, andiamo indietro. Bota ieri ha... Ha stompato. Ha fatto una partita da 3k, una partita da 12 kill. Ieri Bota era... Però, boh, cioè Bota è veramente un abuser di Emlock, proprio come Panditz. Eh, eh. Eh sì. E gli Emlock che rompe, dai. No, l'Emlock è troppo forte, cioè... Ma non prendetevi la comoda. Che poi lo sto usando solamente perché ieri Bota ha fatto il devasto, quindi volevo usare. Ma è troppo... È l'arma più forte della stagione, cioè... Nico, sai che Re Vultato non viene rallentato dalle proprie granate qua? Ah, figo? Stanno lottando col Mark. Ma ti... Cioè... Scusa, non viene rallentato neanche tipo da... Ulti di Bangalore? Cracca, Re Vellante Viola. Forse sopra un solo. Qua sono almeno due. Qua sono almeno due. Raga, è one shot. No, sono in due qua, sono in due. No, fuck. Che brutta cosa. Ah, erano tre allora. Pensavo che fosse spritato il caustic, minchia, era full team sopra. Hanno fatto portare, mi sa, l'altro team. Può essere. Sì. Stai rassando nel mezzo. Legata. Mamma mia, main hash, cazzo. Ma? Cracca, pull caustic. Cracca, pull caustic da me. Preso. Mi pull, mi pull, mi pull, mi pull. Bravi, raga. Un botto di knock, raga, un botto. Presi. Crack la Valkyrie. Another team. Rompetela, rompetela, rompetela. Bravo. Easy, easy, easy. Che mi ha scoppato. No, era già scoppato. Presa Horizon. Valkyrie stai non l'ho legata, che sfiga. Ce ne sono due qua, raga. Cattali e, sì, scusa, Valkyrie è l'altra. Presa la Valkyrie. Fa un culo. Ho nove assist, direi che ci sta. Vabbè, ci sta, ci sta. Però veramente peccato, speravo di ucciderla io, avevo uno di vita. Qua sopra. Qua, qua, qua. Raga, l'EMlock non ha senso, l'EMlock non ha senso. No! Ok, sì, sì, sono entrato in casa, sono entrato. Sono safe, sono safe, sono safe. One, one. I'm safe, WT. I'm safe, WT. Hai un Phoenix? Oh, un altro team. No. E allora resto con zero batteri, però. È un altro team, questo. Full? Andiamo lì! Sono in due. Ok. Eh, l'ho tolato, penso fosse solo la Valkyrie. C'è ancora una Bangalore. Secondo me che li fate? La Bangalore è col 30-30, quindi attenti. Da più che altro a me ha scompato la Valkyrie di EMlock, è veramente armano senza. L'ho fatto 26. Bravo, Nico. Eh, ma per col turbo compressore, Panditz, cavolo. Cioè, non... Lo sai che non mi sento a mio agio, però non lo toglierò, perché da vicino è forte. Sono Vrate e Bangalore, quindi? Eh, mi pare un altro. No, 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 l'Horizon, che lucida. E c'è un Mirage. Sì. Ma che cazzo? Vabbè, lo dobbiamo craftare. Ah, non si può craftare, dobbiamo andare in safe, allora. Io entrerei per di qua. Che palle, bro. È veramente sfortuna, sì. Ho usato l'L1 di Loba per pushare l'Avry to one shot e mi è sbucata la Bangalore. Davanti a me, davanti a me, aspetta. Qua non capisco dove. Sale. Eh, possiamo andare di qua. Eh, no, qua non è il safe. Eh, no. Qua sotto sì, però. Oh, ma ce l'ha il Phoenix? Pezzo di merda, che prima mi hai detto di no. Ah, l'hai trovato ora, proprio nella cassa che hai appena aperto. Cavolo. C'è da solo, eh, Davido. Fatta, però, bisogna di una mano. Eh, ma non so quanti siano qua da me, mi sta full team. Ma questo cosa sta giocando? No, non ci credo. Ho bisogno di una mano. Eh, sto guardando qua che ci sono due team. Eh, vada, io, guarda. L'ho capito, ma c'è l'altro team qua. 50 HP. Proprio qui. Minchia, te li sei mangiati, Davido. Dove, dove, dove? Eh, ha arrestato. Qua c'è il mira, il cilinato. E ha 10 HP. E quanto batte? Eh, niente. Cioè, l'hai visto, panno? Sì, minchia. Eh, ma sentivo l'altro team sopra di me, proprio. Eh, mi conferma. Ma no, invece... Ma scusa. Ma stai giocando? Era la Bangalore il terzo? Non può essere. No, sì, ma non era da te, niente. Un altro team, quello che era da te. Eh, mi conferma, niente. E cosa sono? Due Bangalore con la stessa skin, scusa. Ti puscio. Ti sta pusciando. È andato sotto. È andato sotto da te. Ma dai, cazzo. È andato sotto da te. Un nemico cappone. Che cazzo. Uno in venti. No. Easy. La safe, Nico. Eh, sì. È morto. Là, è sopra. Sì, ma... No! Di quanto? Vabbè, era la quarta. Non sarei entrato. Però forse, guarda, che con due termici e la ulti sarei anche entrato. Sì, ma guarda lì che cazzo di partito. No, ma sarei entrato. Mi sono stato un coglione. Perché non mi ero accorto da avere i termici. Me ne sono accorto dopo. Ma non sto in pago, mamma mia. Secondo me ci sarei entrato tutta la vita. Un termico qua. No, sì. Un termico qua. Un termico sulle scale. Poi ulti in sé. Ci sarei arrivato sicuro. Peccato. Non è che non mi ero accorto proprio da averceli. Mi sono accorto alla fine. Trollata io. Trollata tu. Vabbè, sti cazzi. Ho vinto la Bangalore, peccato. Quella Bangalore lì, però, proprio inaspettata. Appena ho abbracciato verso l'avrito. Peccato. Però sì, dai, è stata molto divertente, vedi? È stata molto divertente come partita. Top 10. È più bello vincere, però. Abbiamo finito in top 10? Sì. Abbiamo finito in top 10 e avevamo 17 kill di squad. Cioè, abbiamo killato solo noi in sta partita. Top 10 con 17 kill di squad. Che cazzo facevano gli altri? Mi sa, abbiamo killato solo noi praticamente, veramente. Cioè, di 30 kill che c'erano state ne abbiamo fatti 13 noi. 3 siamo noi morti, figa altri 10. Cioè. 17 noi. Eh, 17 noi più 3, perché le nostre 3 morti, intendo. Eh, ma avevi detto 13 adesso. Eh, no, sì, sì, vabbè. Ti perdono. Cioè, nel senso, abbiamo fatto... Cioè, gli altri hanno fatto 10 kill tra di loro. Minchia, ma ho stompato con Ashe, hai visto? Porco cazzo. Ma è, madonna. No, la Bangalore ti sei scopato. Eh, anche il Mirage, abbastanza. Diciamo che se avessi la tua mira di due settimane fa, quella Bangalore sarebbe morta 10 volte prima. Sì, sarebbe morta prima, però vabbè, dai. Cioè, alla fine comunque sono... Cioè, me la son cavata, là. Peccato veramente che non mi sono accorto quando ho confermato il Mirage. L'ho buttato tempo, perché ho detto, vabbè, sono morto. Mi prendo la kill del Mirage, però in verità, con i termici... No, mi sarei salvato. No, no, mi sarei salvato, figa. No, 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 mi sarei salvato. No, no, si sarebbe salvato. Pandits. Mi sarei salvato. Ma sicuro. Avevo la ulti, avevo la ulti. Ma sicuro, mi salvavo sicuro. Qua facevo, dopo il knock del Mirage, qua facevo un termico qua. Mi fullavo. Buttavo un altro termico sulle scale. E poi dalle scale facevo la ulti in safe. Ci arrivavo sicuro. Poi magari morivo appena entrato. C'è un coglione. Ma perché non mi ero accorto di avere il termico. Però sicuro ci sarei entrato. Cioè qua proprio sicuro, sicuro. Termico qua. Termico qua. Buttavo un altro termico sulle scale. E con la ulti arrivavo in safe, ma garantito. Però vabbè. Non dovevo smirare la roba. Come mai Ash è riscattata la leggenda casuale? Boh, mi sta divertendo. C'è un po' che ti sei salvato grazie all'altro team che gli ha sparato anche. Sì, ma un minchio. Io ho girato un po' con il mio. Con un caricatore di 4-12 che c'era. È stata molto divertente Ash. Più che altro ho fatto tipo 3-4 kg grazie allo su L1? E poi giù sopra un container superglide di qua, superglide di là. Mamma mia. E si è scopato anche il terzo, ma è troppo non abbastanza. È stato divertente. Boh, comunque veramente 17 kill di squad finire in top 10. Insomma. Cioè. Quante kill avevate su voi? 8? 8 io. Veramente imbarazzante come cosa. Io pensavo di essere tipo in top 5, top 4. Sincero. No, no. Top 10. Eh. Cazzo. Col cazzo top 5. Più che altro per quale era l'anello? Cazzo. Eravamo in top 10 nel quinto anello tipo. Top 4 mi pare. Porco diaz. Più che altro senza una bungalore o una katta di sin squadra sai, ma morti comunque. C'è ancora Tommy? Ci sei? Mi cacca. È colpa di Tommy che l'ha... E Tommy ha scritto top 10 in terza safe. Ci metterai la firma. GG. Porco cazzo. Il problema è che poi è rimasta top 10 anche in... Anche in quarta, quinta, safe. In su. Esattamente, Davido. Che cazzo stai facendo qui sotto? Arawa. Sì. Livello 2. Ehm... Sono indeciso se riprendere il PK. Va, io lo tolgo il primo avanti. No. Cioè, sì. Cioè, no. Non lo so. Non lo so, che armi usavo prima l'Avok. Con l'Avok sono andato veramente male. Oh, il PK. Il PK l'avevo usato però perché l'hai trovato dorato. Ricordatelo. Mamma mia che combo. Eh, minchia. Prima ha laserato tutti. Prima cittime. Madonna, infatti che cazzo vuoi? Prima ho fatto 8 kg laserato. T'ho fatto pure tutti gli assist con la mia L1. Ti stavo scherzando. Ti stavo scherzando. Prima ho fatto almeno 5 kg grazie all'L1 di Ashe. No, è stata veramente forte. Troppo forte Ashe. Molto, molto fortissima. Qualcuno vuole un pigatto? No. Cioè, l'ho mollato anch'io. Ho comento il mercatino. Che bello. Godo, lascio il pigrappa con un curatore. Godo, cara cabina, con caricatore viola. Ehm, vabbè, abbiamo due scudi viola, uno scudo blu, niente male. Dada, dada. Ah, vabbè, arrivo io, grazie. Ah, tranquillissimo. Grazie, tanto. Dai, minchia, mi sono qua. Ma no, è perché, cioè, mi annoiavo a salire a piedi. Secondo me ci sta, dai. Poi c'è sì, vuol stare, c'è stato. Vabbè, insomma. Lo stabilizzatore canna viole era lì. Vabbè, lo so. Bella, Morgan. Ah, è sotto al piano intermedio. Grazie, provato. Vieni qua. Ma che c'è nel drop? Che c'è nel drop? Ma infatti è di qua o di là? Ah, è di qua, ok. I was... Ah, ma non possiamo guardare cosa c'è, cavolo. Eh no, perché tu non hai o... Era un fake, Titi. È impossibile. E... Cioè, comunque siamo col cross attivo, ma il cross play ti mette tra play e Xbox, non ti mette con quelli PC. Quindi era un fake. Dipende. No. In ranked è impossibile. Ma in ranked non lo so, però tipo... No, no, in ranked è impossibile. Controllo... Anche perché in ranked abbiamo fatto una partita, quindi... Ma non volete aspettare il drop? Ma raga, sono qua da me loro. Eh, li ho visti. Oh, cazzo. No. No. Che portali di merda. Sto pando il farigo da te, sono due team. Uno e quattro. Come sono due team? Canto Bangalore. Easy non può pushare. Easy può pushare lo stesso. Uno è blu. Ti riesci ad avvicinare a un amico. Eh, io ne ho uno. 26 blu. Al tuo. Raga, ne ho due, ne ho due. Mi serve aiuto. Eh, non... Eh, guascio, se la Bangalore qua, sì. Buono, vai, vai, vai. È splittato questo, è splittato. Mannagina. Dai, dai, dai. No. Ma fai i bracciali, vai via. Togliamo ascia. Non è... Perché Rosico se mi ha preso a punni. L'ha preso a punni. Eh, an laghe. Peccato. Ma guardate che era un team solo, comunque. Ma no, ma era un team solo, raga. Ma infatti era da... Cioè... A me hanno pushato in due. Era splittato, era uno solo, era uno solo. Era splittato. Era splittata la Ori, secondo me. Però l'anno... Cioè, io ho avuto quello là addosso a me per... Due ore e mezza. Mannaggia. Pandiz, scegli un main per me. Ti direi... Main... Vai. Che vuoi che posso andare a minare? Posso prendere? Godo. E tu che prendi? Eh, buh. Ora hai. Secondo me non è lobo. Eh? È lobo. Secondo me non è lobo. Ti lascio lobo. Eh, va bene. È grosso cambio di main. Tanto io ho usato tutte le leggende storsa season. Beh. Anche questa, in realtà, sono usato un po' tutti. Ci sta. Tipo sono un grandissimo... I Davidotti Horizon. Io ho avanti già, ad esempio. No, 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 no. No, no. Oh, il cazzo povero. No. Perché no? No. Non gioco con i main vantage. Ma con Vulkan c'è giocato? Sì. Perché con me? Ho bevuto... Ma perché lui la sa usare. Sì. Ah, il suo leggendario colpo del tiro al piattello. Che tu non sai fare. Io sì che lo so fare. Ma non è vero. Non l'hai mai fatto. Troviamo qualcosa di interessante. Attento Nico, hai dei coltelli che ti seguono. No, ma sono attorno a me. Non è che mi segui... Cioè, sì. Ma non c'è rischio che mi colpiscano. Il nemico è appena atterrato qui vicino. Io un'arma ce l'ho. Quindi... Ho distrutto l'oscudo. Dove? Dove il... Il crack? Eeeh... Main radius? Perché non posso stare là? Sta arrestando? Eh, non ho pick su questo. Se va indietro lo prendo. Non ho pick. One. Eh, non ancora arrestato. Ah, ma è là ancora. Sessantadue. Sessantadue. Ah, bravo. Sessantadue, dai. Ci sta. Ci sta, ci sta. C'è... Dovuti di P20V. Ma, ma veramente. Panditz con la P2020. Un attimo. Ma... Ci sono cose molto carine. Cioè, io tipo... Vi offro una carabina. Sì, avete un 99. Ah, l'ho trovato. Guarda qua. Ma sai che me la riprendo anche indietro? Ah, ma c'è il perfura scudi al crafting. E allora alternator, direi io. Se vuoi ti posso dare il pick up. No, no, no. Grazie. Sto colore della Sherlum non mi piace. No, sì, boh. Non mi fa impazzire, però... È una Sherlum, quindi la uso. E... Qui c'è un caricatore pesante. Sto in suoto perché siamo in live. Andiamo quindi. Però... Va bene. Sì, sì. Ve l'ho buttato. Cosa? Guarda come piange. Eh, guarda come piange. Ma chi? Panditz piange? Cazzo, fottiti. Dopo il nerf del 99 dici che è peggiorato tanto un botto. Cioè, allo start, sì, senza caricatore è un casino. Però, vabbè, già con caricatore bianco è uguale a prima. Però, tipo, allo start, start, 17 colpi a volte li senti. Soprattutto se ti becchi contro allo start, tipo, che i tuoi 17 colpi, te ne becchi uno che ha armatura viola o blu allo start. È brutta roba. Però, vabbè, già quando hai caricatore bianco, alla fine è praticamente come prima. Non c'è il crafting, però. Cavolo. Sarebbe stato molto bello. Io prenderei le blu. Cioè. Beh, insomma. Buona fortuna. Meno si aprizi a Mirage, quale di trailer lui mi consigli? Mirage, ovviamente. Che domande. Vado ad aprire la capsula bella. C'è un medikit. Se vi... Se vi... Serve. Ciao, Andrea. Se vi... Se vi... Se vi serve. Ma voi che rank state? Eh... Argento 3. Eh... Argento 1 io. Ah no. Eh, ma tu tagliardi. Eh sì, è vero, cioè... Poi giochi quando neanche lì fuori, c'è bene. Eh, è vero. No, quando ho detto che ti abbassa il KB. Eh... Potete prenderla quella batteria se volete. Incredibile, grazie Peulo per i sette mesi di Resub. Vogliamo sette mesi quando li ho fatti. Vogliamo sette mesi quando li ho fatti. Beh, immagino tipo almeno... Cioè, almeno da sette mesi tu abbia startato. Cosa ride? Eh, ti ha trovato un 2-4. Ti fa ridere la matematica. Oh, l'ho trovato. Eh, ma un posto carino con il crafting di qua, tipo. Perché, cioè... Eh, ho l'alternator. Cioè, io ho lasciato il 99 per tenere l'alternator. E quindi mi piacerebbe avere il perfora scudi. Potevi pingarlo. Ma non è obbligatorio. No, vabbè, non è obbligatorio, però... Cioè, è stata una mossa un po' azzardata. Se non dovessi prendere il perfora scudi, sarebbe stata una mossa un po' azzardata. Preferire l'alternator. Sì, concordo. Eh. Quindi... Ah, io comunque vedo un voto di gente che usa la P-2020. Perché? Sì, anch'io. Cioè, tipo Panditz allo start prima. No. Adesso comunque, però... Ma perché secondo me vogliono flexare i livelli delle armi brutte. Sì, ma i ranked usano a P-20... Ma chi se ne è le ranked sono più facili delle pub. Il 30-30 lo usano un casino sta stagione, eh. È veramente tanto. Eh, ma perché c'è anche il... Il 30-30 lo giocano un casino. Cioè, è proprio stragiocato. Lo giocano tutti, minchia. Cioè, ogni partita si becca almeno tre persone col 30-30. Rispetto a stagione scorsa che non si beccava nessuno. Ma mi hai copiato? L'hai craftato anche tu? Che copione. Che copione. È stato bambusolato. Non c'è molto di carino, però, qua da prendere. C'è gente, se ne arrivano. Eh, vabbè. Cioè, più che altro mi dispiace lasciare il market non lootato. Certamente sai. Sticato uno! Dietro, dietro. Dietro qua? Mi pare di sì. Sì, 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 sì. Eh, raga, GG per la partita. Vogliamo provare a muoverci via? Di qua, tipo. Di qua. Di qua, tipo. Siamo impaninatissimi, meglio levarci. Ma che non c'era nessuno. Sì, da che non c'era nessuno, tutti i team da noi. Let's go. Andiamo verso di qua. Zip lane è prendibile. Ma la Catalyst, cioè... Eh... Il tuo con l'avoc mi sa che stava insieme alla Catalyst. No. Vabbè, sì, ma la Bangalore di sicuro no. Ma io li verrei perché non voglio finire nel panino come prima. Mi vado a prendere una batteri qua dentro. Che fightano qua, più che altro. Possiamo fare questi. Cioè, possiamo ingaggiare questi. Dalla questa. Che è un fight. Praticamente free, c'è già un team qua. Aspetta. Si stanno curando da me, si stanno curando da me. Quelli dietro forse arrivano, eh. Eh, ok, ok, ok. Qua c'è un team qua che sta rissando qua. Qua sotto. Aspetta, aspetta, aspetta. Pushano gli altri, forse. Io senti... Sì, c'è un 3 venato in oltre. Sì, falli pushare. Che stu... Ma porco di Iazfra, ci ha fatto... Ha fatto... Ha fatto l'1, si è accorta di noi quella. Lasciala, 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 vai. Ma no, lasciala! Ma che, stanno fightando. Ci sono già i knock. Ora ci sono i knock. Qua sotto da me, qua sotto da me. Preso uno. Dietro. Eh, è craccata la roba del Revenant. Eh, Revenant è scappato di qua. Era in solo, secondo me. Revenant, secondo me era in solo. Non c'è sempre la gente sopra. No, è sopra. No, no, ma c'è gente sopra, c'è gente sopra. Sta arrestando, mi sembra. Dove? Eh, penso da... Sopra, salite. 101 al Fuse. No. Che palle, Fuse. Eh, raga, voi io non li sto vedendo. Non so, fai tanto. Preso. Eh, son morto, forse. Distrutto il Fuse. Eh, li ho preso solamente, credo. Distrutto il Rav. Ah, su, ho fatto il Fuse da me. Watch out il Fuse, raga. One in Fuse, one in Fuse qua. Preso? Eh, ho fatto 150 alla Rav. Preso, ok. Tiro il piattello. Tiro il piattello. Ah, solo a me fa l'animazione di Rep Reborn quando il vecchio Rep ha la pistola in mano. Sembra il thriller della stagione 4, sì. Ciao, vedo. È l'animazione del nuovo Revenant. Ti compare quella vecchia solamente... C'è un full team fred qua. Quella vecchia ti compare se mi tiro la scondetta. Eh, mi devo dare un attimo che ho 0 a leggera. Eh, ti devo dare... Non mi spesso bene. Eh, pandiz, devi provare a scappare, non... Lancio la mia eschia. Eh, dai, non mi ficcia qua. Eh, Nico, cosa facciamo? Rattiamo, che devi fare? Cioè, è finita. 0 a leggera. Uno era blu di quelli. Eh, però... È veramente una brutta situazione. Devo assolutamente luttare delle leggi, è la 0 completa. Eh. Eh, qua non c'è tanto da fare. Eh, ma il mercato è piuttosto. 11, 25. Vabbè, non siamo l'unico duo. Diciamo che non è tanto il problema della duo. È il problema che è munizioni. Leggeri te ne do io. Sono pieno. Non mettere market qua, non metterlo, perché sono là, ci buscano. Qui ci sono munizioni leggere. Allora, il Fuse, perché va a schifo. Ma l'Oraison pure. Ma l'Oraison, 16.000 kg. Fuse, Oraison e loba? No, sono mangiati. Lobba non lo so. Hanno messo trasmettitore di riempoportatile per noi. Io ho visto una... Una catalyst. Ma come? E catalyst c'è perché ci sono i muri, ma scusa, hanno messo il market. Sono tante, ma infatti... Non è di quest'ultima cosa, se credo. Eh, appunto. Secondo me la catalyst è scappata dal fight di prima. Eh, io avevo 50 leggere. Sono ancora lì. Avevo il ressorto, se... Sono ancora lì. Eh. Sì, c'è una cosa. Ripseva. Hai un portatile, eh? Eh, no, però il market. Ok. Mi sono messo a fightare. Prova a vedere se c'è un... C'è. Hai preso due? No. L'ha preso. Mirage. Forse c'è il ressorto ancora nella mia casa. Guarda che qua c'è il loot. È in safe il loot, no. Eri. Però c'è il market. Che giocata del pandiz. Porca trovi. Che maglia sono nella finestrella. Col campero. Eh, ma ora arriva, non mi so. Secondo me no, dai, sarebbe stupido. Sarebbe molto stupido. Cioè, sarebbe proprio una cazzata. Se arrivano lì, me li scopo. No, stanno lo fanno col mare. Sì. No, no, è davidottiz. Oh, oggi con pandiz e davidotti stanno andando molto bene. Stai gaccits. Abbiamo fatto... Abbiamo fatto una decima posizione con 17 kill di squadra. Eravamo in top 10 e... Io avevo 8 kill 2000 danni. E, boh, il team pred su cui mi è finito lo spectra, perché io sono morto di safe, ma il team pred attuale su cui mi è finito lo spectra aveva una kill di squadra. Eh, eh, eh. Come giocano in modo magnifico. Che cazzo sono? Sono qua, qua. Eh, ehm. Picca. Ma, eh. Faccio girare io. Eh, non so se fa in tempo. Mi posso coprire. Un L1 di davidotti un po' alla pandiz. C'è un po' alla pandiz, un po' alla stackage. Che ci sono? Ho preso 75... No, no, ho preso 75 danni per colpa dell'L1 di davidotti. Insomma. Non voluta, non collata. Ci sono medici. Ci sono medici. 120 red. Ho 60 flash. 16 flash. Ho fatto. Un atterro. Ehi, fatto. Hitato il rev, quasi crack. Raga, qua si è in safe, qua si è in safe da me. Qua da me si è in safe. Stiamo qua dietro, siamo qua dietro. Vai. Metto mark a tutta? Sì, appena ce l'hai, sì. Ok. Panculo, il prowler me lo tengo. Un caricatore di prowler, meglio di... Sono lì, è molto alto. Non ci prende loro. La fuck? Mi cazzo, ho finito le batteri. Ah, se suoppo il prowler potrei prendere... Potrei prendermi la fuck. No, non ce ne ne mancora. Però non ci sta il caricatore. Se ce l'è, no, te ne posso dare solo due. Forse mi conviene la carabina. Grazie. Che piglio carabina con... Caricatore viola. Sì, vado a lotare la cazzo del pack. No, vabbè, pandits? Sono vivo, sono vivo. Non dobbiamo fightare, siamo safe anche alla prossima. Eh, ci pusha, no? Mi hanno pushato. Mi hanno pushato, poi. Mi muoce. Mi muoce. Mi muoce. Ma questi perché hanno pushato? Eh, hanno fatto la cazzata, veramente. Cioè, più che altro... Oddio, non so se ci moriranno adesso. Ci sono morti. Ma io non l'ho capito. Ma io non l'ho capito perché hanno pushato. Non li ho manco sentiti. No, ci sono morti. Cioè, la Bangalore che ha pushato c'è morta. Vabbè. Però sono rimasti vivi. No, ma mi ha pushato il rev da dietro con l'esser. Non l'ho minimamente sentito. Insomma, vabbè, dai. Cavoletti. Vabbè. Le nostre sporche partite le stiamo facendo. Ma infatti no, dai. Cioè, più d'altro sono divertenti, vedi. Piuttosto delle pub sono divertenti. La gente là, beh, punti di fare. Sì, sì, io ho fatto tantissimo. Che possono... Quindi sti cazzi. Chi puoi mettere? Ciao, Lorenzo. Ricordate, ragazzi, se vi salvate avrete l'amicizia di NicoMyGod. Top 6, sì, top 6. Anzi, break, dai. Sei capace? Ehm, lo scopriremo. Beh, 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 beh. Insomma. Ma vabbè, mettiti, 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 mi, ma mettiti Mirage. Mi metto qualcun altro io, mi metto Mad Mag. Ma mi fa cancare, tantamente, ma a me importa sparare, no. Perché se poi fai 300 danni, preferisco che ti metti Mirage che almeno spari. Cioè, se devi giocare altre leggende per fare 300 danni, preferisco togliermi Mirage io, fare un po' di meno io, ma almeno tu non ne fai 300, cioè, capito? Almeno, facciamo un compromesso, cioè. Ma, scusate, cioè io posso anche usare Catarist. No. Ma no, tranquillo, tranquillo. Allora userò Revant. Vai, vai, usa chi vuoi. Allora. Ok, userò Vantage. Ulti di Bangalore fa danno ma non rallenta. Tattica di Ashe non ti fa nulla proprio. Granate e stelle Arc non ti fanno nulla e non ti rallentano. Ulti di Gibbo fa danno ma non rallenta. Però puoi sticarlo. Ma è un bug? Sì, compagno. Cioè, è un bug o è una cosa voluda, sta roba? Mi metto a dormire, hai tu? Che robetta. Se qualcuno si mette in Revant proviamo a sticcare con l'alti. Ah, perché puoi sticcare la ulti? Sì, proprio quello che dobbiamo fare in Ranked. Ma e se ti rompono, e se ti rompono lo scudo, cade la stella Arc, è vero? Che penso di sì. Senza di sì. Magari chi si scappionato lo rompo e non muori. No, ma giocare in Rev non lo trasto in Ranked. Vado di Mad Mag. Ma no, ma... No, vado di leggende che... Ma Mad Mag la so usare meglio di Octane, vai tranquillo. Ma io voglio Octane. Ma Octane fa cagare Pandiz. Cioè... Allora usa Mirage. Eh, ma lo devo usare David Otti, se no fa 321 danni. Ma a parte che vorrei usarlo io, Mirage, posso? No. Il mio main. No. No. Ok. Allora posso usare Catalyst. No. Eh, lo riproverò, Rev, però adesso... È il mio main. Dai, Nico, scusa, fai leggenda casuale e via. No. Ti so che ho nì, problema. Se non ti piace non lo uso. No, ma Ash prima mi ha divertito molto e ho giocato bene. Quindi voglio provare se con Mad Mag gioco bene. Beh, sono tutti camperati nell'ultima safe, quindi per forza. Eh, appunto, per quello. È un po' di danno. Eh. Per quello, infatti. Ma pure Fuse. Su Octane ho 58.000 e 3 kill. Ehi, qualcuno ha un accettino. Qualcuno ha un accendino. Ci penso io. Ci pensi tu? No, Panditz, perché... Perché Trastamela. Ma perché Panditz la devi trollare così Fuse in Ranked? C'hai 100 kill. Minchia, c'ho quasi 2k kill su... Oh, io c'ho quasi 2.000 kill su Mad Mag. Ma che cazzo? Sì, ma non hai visto le mie 4k però con quelle 100 kill. Bravo. Fatte in Ranked. Io con Valkyrie ho fatto i 4k dopo 21 kill, Panditz. Che bravo. Grazie. Un mese, Lorenzo. Non mi ricordo neanche quanto costa la sub con il punticanale. Che fortuna, ragazzi. Hai visto, Nico? Io non ho un'arma. E cavolo, io ho trovato solamente un G7. Beh, ora ho un peggioro. Beh, eh... Ora li sticco, Nico, tranquillo. Vai, vai. Vado di qua. E io sono di qua perché devo trovare delle armi. Trovate. Mi full. C'è un flat lane da me. Se volete. Oh, e non loot la parte con le robe viola garantite, raga. Minchia, l'unlock. Porca troia. Il tuo o il suo? Il suo. Il suo. Eh, brutta cosa. Ciao, base. Arriva il brogione. Dai, Dottie, non scappare, però. Eh, ormai è troppo tardi. Ormai è fuggito. Sono tutti qua dentro. Io ve l'ho detto, cioè, lo spazio con le viola garantite è libero. Cioè, vi pigliate un'armatura viola. Se volete. Non sarebbe male. Se volete. Ciao, Giovi. E che vuol dire, scusi? Cioè. Non capisco il nesso logico. Grazie, boss di Nico per la sub. Quindi non possiamo... Premi nel link per entrare nel gruppo Telegram. E poi Panditz e poi? E poi? E manda la richiesta d'amicizia a Nico, che te l'accetterà. E mandala soprattutto a It's Panditz. Perché l'accetterà pure lui. Ma non è finita qua. Ehm... Perché per oggi avrai anche l'amicizia di Davideotti. Una oro e una viola da mano. Io ve l'ho detto. Mia la oro... Eh, cioè, l'hai pingata tu. Cazzo. Ah. Ma l'avevi pingata? No, però lui è con un ladro. Perché ho detto che era mio. Eh, allora te la devi lasciare. Ma gli assi sono messi a faiutare. Sì, infatti c'è, io mi avvicinerei. Però non dovevamo piccare queste leggende, sinceramente, secondo me. Io l'ho pingata. Cioè, io mi sento molto poco confident al momento. Perché? Eh, boh. Perché Mad Maggie non la giocò da veramente tanto. Un tempo mi ci sentivo confident. Adesso un po' di meno. Eh, però si è spostato. Però vedi. Vedi, infatti, vedi. Cioè, vedi. Avesse avuto... Ma si è spostato appena... Che po'. Mi rush l'avrei colpito. Ma non sono sicuro se non l'ha, eh. Cioè... Eh, ma in senso non ho 34 FPS. Non è tanto bello. Ma che fine hanno fatto? Non li so, non li vedo più. Da dentro. Uno è qua. Sì, l'ho sentito. Io devo ancora sparare. 93 all'Horizon. Ah, bravi ragazzi. O lo dè io o devo ancora sparare in sta partita? Cioè, ho sparato. 50 Flash Horizon. Ma... Mamma che... No, tipe. Ma perché? Giocano così. Mannaggia il cazzo. E... Vabbè. Eh, vabbè. Ho fatto anche 25 FPS. Ma anche io ho 30 FPS. Grande, rinco. Ma... Eh, grazie. Guarda la mia visuale. Guarda la mia... Aspetta. Guarda la mia visuale. Aspetta. Ma boh, ma come cazzo gioca la gente, porco diaz. Accucciati... Ma accucciati... Accucciati... In un boh, sotto le scale, fermi. Ma che cazzo. Ma vabbè, zero danni comunque sono danni importanti. Grazie, sì, lo so, ma... Scusami, guarda un attimo la mia visuale. Tu ti puoi mai aspettare di trovarti due persone, figa, due predda che giocano in sto modo. Cioè... Ma... Cioè, pandiz, porco diaz. Ehm... Boh... Comunque, in realtà, non so... Sì... No, sì. Unaxpected. No. Cioè, no... Davidotti, mi dispiace, devo usare Mirage. Devo... Cioè, devo performare con Mirage. Non sennò potrei mettere Ash. No, vabbè. Mirage. Vabbè, Mirage. Ehm... Ehm... Tanto che Davidotti è forte, forse si è ruggendo. Ehm... Invece Pandiz è forte con... Ehm... Sì. Con Catalyst. Mi piace al Gold. No. Il Gold, molto bello. Ma è un bel banner, sì. E ora sto facendo Ranked, st'Apex. Penso che andrò avanti Ranked. Finché c'è il matchmaking così su Apex, io sta stagione faccio only Ranked, penso. Fare il sub day e giocare con i sub, credo che sarebbe un inferno per i sub che giocano con me al momento, col matchmaking che c'è. Penso che non sarebbe un'esperienza divertente. Purtroppo il gioco in pub l'hanno... l'hanno ammazzato. In attesa di giocatori. Ciao, Davidotti. Benvenuta. No, visto che ha scritto... Grazie. Eh. 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 Ma Olympus fino alle 19, vero? Sì. E poi che mappa c'è oggi, Ranked? Una distrutta, credo. Oh my God! Milla! Grazie mille, boss di Nico. Se ci fosse Cagnon del Re sarebbe bellissima la best mappa. Grazie per la sabbina regalata. Ecco. Il Ranked è fortissimo l'Opa, ma in generale... Grazie per la sabb regalata. Ma... L'Opa... Sì. Dai Panditz, stavo facendo una bozza della possibile tier list di questa stagione. Indovina il tier S. Con chi parli? Con te Panditz. Ah, dimmi tutto, sì. Eh, indovina. E cosa? Eh, te l'ho già detto però. Ah, è il tier list, tier S. Ok, esatto. Indovina il tier S. Sì, ho detto... Stavo facendo una bozza... Leggenda a Wormi. Leggenda. Stavo facendo una bozza della tier list leggende di questa stagione. Indovina il tier S. Seguite il leader! Revenant. No. Hai già sbagliato. Eh, dovete dirle tutte però. Cioè, dovete dire il tier S è... Revenant o non mi sentire il tier S? No. Beh, lo hai venuto a tier A però, dai. Ciao, Nico. Esatto, sì, l'ho messo in tier A, mi sembra. Ok, al mio tier A va bene. Grazie. Eh, grazie mille, vostro Nico. No, sì, ma devi gli altri poi. Cioè... Dovete indovinarli tutti. E poi, loba. Esatto. Esatto. Eh, mio cazzo. No, mio cazzo l'ho messo in A. Subito sotto il tier S. Catalyst. Esatto. Catalyst, loba, bengalur e Horizon l'ho messo in S. Ma secondo me è onesto tutto sommato. Sì, minchia. Come fai a non mettere Horizon in S? Dai, ma vaffanculo. No, non puoi non metterle in S proprio. Cioè... Letteralmente la leggenda più forte del gioco. Sopravvalutata. Ma insomma. Cioè, sinceramente... Ma sì, solo perché lo usa i sui die. Eh. Sono fai tanto di brutto. Ma sopra? Sì. Sì. Ti voglio bene e sei il mio streamer preferito. Lancio granata per vite in corso. Cavolo, non ne ho bruciato nessuno. Quanto sarebbe bello un minaccia digitale qua? Ah, non la hi-frame però. Sì. Ho distrutto. E se l'ho parato. Mi ho lasciato uno. Eh, sì. 840 alla bamba. Bianca. Bravo. Sto pushando. Sto a zero danni nelle ultime due partite. Incredibile. All'agget. Io sto a zero danni nelle ultime due partite sommate. Mi sa che qua... Ma tu hai bruciato e hai fatto zero danni? Sì. Sì, sì, sì. Eh, Panditz, però non mi giudicare. Cioè, praticamente mi sono auto-bambusolato. Dovete cambiare team mate, raga. Ma sai che oggi stavo laserando con Ash? Secondo me devo rimettere io Ash e Mirage Davidotti. Qua... Cioè, l'ho bruciato un full team e ha fatto zero danni. Ma perché ero sì? Cioè, proprio... No, due tizi. Ah, no. Pensavo due danni. Cavolo, ma mi hai illuso. No, no, no. Due tizi. Ah, due tizi. Sì, non ero un full team. Erano due. Ma ancora, ancora aveva la scuola di due camperati. No, è vero. Adesso no. Adesso non ci sono... No, è che praticamente ti dico... Cioè, io mi sono girato perché ero convinto che fosse... Eppure eri in forma oggi. Le prime due partite, minchia, sì. Le prime due partite ero stra... Le prime tre partite. Le prime tre partite ero stra in forma. Ho carriato. Poi basta. Beh, oddio. La partita... No, 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 no. Ma vai a cagare, ho smirato, figa. Avevo otto kill in top 10 in rank. Dai, dio, caro. Stavo in partita da venti bomb e stavo. Eh, ma c'avevo millenovecento danni, se permetti. Cioè, stavo a otto kill in top 10 in rank. Figa, ho smirato. Ma qualcuno non mi ha aiutato contro il tuo team. Ma vai. Stavo a otto kill in top 10. Insomma. Poi ero convinto che fosse all'angolino, lei. Poi, vabbè, il fatto che io abbia sparato in aria... Cioè. Insomma. È il Kronos. Eh, sì. Eh, perché purtroppo ce l'ho settato per fare HS alle leggende alte, capito? E Lifeline è una leggenda bassa. Esatto. E quindi le ho sparato giusto sopra la testa. Eh, sì. C'è questo inconveniente, purtroppo. Va settato meglio. Infatti, vabbè, proprio sopra la testa le ho sparato. Eh, però, vabbè. Cose che succedono. Grazie. Grazie, grazie. Apprezzo la tua... La tua... Comprensione. Comprensevolezza. Che ore ho su Minecraft? Eh, le sto andando a guardare. Cioè, proprio ho detto. Guardiamo quante ore ha Davidotti su Minecraft. Ne hai 22. Su Fall Guys ne hai 8. Ne avrà 50. 50. Se indovini il numero preciso, vinci un pacchetto. Ok, 52. Ok, vediamo. Posso provare a trovare... Verifichiamo. No. Ne ha... 78. 77. Cazzo. Minchia. Perché, ti spiego, l'ultimo giorno, non mi ricordo se è stato ieri o l'altro ieri, ha fatto 11 ore di Minecraft. Non è vero. Non è vero. Erano... 9. Ma hai fatto... Hai fatto 3 ore su Got Simulator? Ma secondo me devo rimettere Ash. Prima con Ash stavo stra in forma. Cioè, proprio... il serve le hai. Cioè, evidentemente... Nuovo main. Grazie, bossa. Grazie mille per i viti. E poi Got Simulator è facilissimo da platinare. Davvero? E allora tocca che lo platinare. Ma è gratis o l'hai pagato? No, l'avevo pagato tipo un anno fa. E allora, me lo regali? Quattro euro. Per platinare ci vogliono due ore. Davvero? Bello. Ma è divertente? Eh sì, infatti... Cioè, più che altro è un gioco molto da favij nel 2011, Got Simulator. Eh, beh, sì. Infatti mi sono ancora andato a guardare i suoi video. Hai fatto il tutorial per il platino? Beh. No. Ah. Però volevo vedere com'era Got Simulator. Cioè, ho guardato da lui com'era e poi me lo son comprato perché mi aveva convinto. Ci sta. E' un buio. Dai, non lo so. Io sinceramente non ho capito niente per colpa delle esche di... No, ragazzi. No. Eh, a staccarti. Eh... Vabbè, dai, è stato bello. La tua arma preferita, Panitz. Il Radius. È stato veramente bello. Cioè, io non posso arrivare da voi, eh. Eh... Ok. Quindi? Cosa vuoi? No. Non ti ingerzo. Guarda, c'è una minaccia. No, posso arrivare, posso arrivare, forse. Questi sono tutti sotto di me. Non è vero, c'è gente anche sopra. No, non è vero. Aspetta. No, non ci sono più. Va bene, va bene, ci sono. Eccomi qua. Bravo, Nico. Eccomi qua, ragazzi. Grazie, bossa. Eccomi qua. Ritornato. Loro sono qua. Penso. Ho l'emblock di Panitz. No, ce l'ho io, il mio emblock. No, ce l'ho io. Che skin hai sull'emblock, tu? Anche io. Anche io. Forse è la mia stessa. Non lo so perché mi puzza anche sta partita. No, io la vedo molto bene. La vedi bene? Sì. E cavolo, speriamo. Sì, ma io stavo giocando aggressive, stavo cercando di avvicinarmi a loro. Eh, sì. Livello 3. Livello 99. Però vabbè, cose che succedono, dai. C'è la carabina. Faridino. Va bene uguale, grazie. Ma sapete dove sono? Niente. Credo che sono andati tutti di là. Quella è un'armatura blu. Sì, cavolo. Pandizio non me la pinga neanche, però, dai. Grazie. Che tossico. Molto gentilissimo. Ma vedi Pandizio, però, le cose che do. Eh, sì. Ma vogliamo andare là? Cioè, io potrei mettere un bellissimo portale per metterci qua sul bordo a sparare. Mi piace. Anche a me. Secondo me è un'ottima strategia. Prima li faccio andare. Hanno appena finito il fight qua. Sono in due, sono in due, penso. No, non è vero, aspetta. Sono due altri due team. Ne sono morti quattro. Rampo. Cinque, sei, no. Sono morti due full team, anzi. Oddio, i miei primi danni dopo due ore. Incredibile. Trenta, eh. Non tanti. Non è una jump. Si stanno spostando. Si fermerà. Ostile catturato. Come un topo. Buttata di merda, però. No, niente. Buttata di merda e basta. 48 controlli. Preso. Preso uno, a sinistra. Cavolo, occhio Pandiz. Arrivo da questa parte. Arriva l'improvviso. Adesso. Eh, arrivo da voi. Stanno arrestando. Ma Locktine è sempre loro? Eh, ha traccato Locktine. Locktine che jumpa. Hanno arrestato? Ha arrestato. La venga, c'è la venga. Ma hanno la safe. Ma sono là dietro? Andiamo un po' i nemici? Si. Dove sono dentro. Perché quando è che andano a busciare? Perché stanno pure la safe. Non si possono curare. Knock uno. Mi ha stickato. Lasciami lo swap. Forse, ha knockato uno. Di safe. Eh, se no. Che culo. Rimane route. Adesso è anche lui. Dove, dove, dove? È davanti a noi. È fuori. Eh, ma sono scappati, niente. La venga mi farà l'alternator oro. E prenderanno la torre, forse. No, non la prendo. Non sono qua da me. Qua. Raga, o pusciamo subito o... Boh, io sono messo male di cura. Eh, scappano di là, scappano di là. Eh, Lucia. Il gioco a Valorant, no. Vabbè, possiamo andare con la torre noi, chi erano? Octini? Eh... No, è... Vengalo. Ciao, Lorenzo. Che paolo. Andi, c'è saluto da Lorenzo. Eh? Per dove andate? Per sinistra o per destra? Sinistra. Eh. Ciao, Lorenzo. Io sono morto, probabilmente. Dovrei sperare, sarno. Ma no, sei vivo. Cioè, ce la fai... Dovete scolitarnici? Ma fatti la siringa. Ah, ma non toglie tanto. Ma no, è la prima, non è la seconda. Ma è la prima, è uguale a prima. La prima è uguale a prima. La prima è uguale a prima. Cioè, è la seconda che è diversa. È la più infame, cioè. Sì. Avete un medico? No, ho solo siringa io. Ma io sinceramente andrei a piedi, cioè... Sì, sì. Però io non ho più cura. Vabbè. Ti lasciamo qua, in caso. Eh, io ho due siringa. Anche io ho solo siringa. Possiamo andare a crefare. No. Bello avere la torre. Ho la torre, raga, io. Però non la metto. Cioè, mi siamo attaccati ormai. Ho finito le turime. Bello avere le turime. Posso? Sì. Obiettivo della giornata di ranked. Ehm, io restate, per favore. Ehm, boh. Oro 3. Posso restare panni? Sono morto. Oro 2. Sì, però sempre qua davanti. Vi vediamo. Ma forse non ci muoio. Sono qua davanti a noi, sono qua davanti a noi, raga. No, 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 no. Eh, che palle. Eh. Ti segue. Ha preso il portale. Davvero? Sì. Dovevamo prendere il condotto. Però ho preso il portale. Sì, a me ci trovavamo a 10 team là sopra. E siamo morti. No, è arrivato anche l'altro. Fuck. Ehm, era meglio mettere torre, però. I didn't think. Niko che la trolla. Ma cosa la trolla? Voi l'avete trollata che siete morti in due. Ma che cazzo volete? Niko che la trolla. Ma voi siete... Incredibile, incredibile. Ma non avevamo una siringa. Ma ho capito. Certo, la trolla, niko. Qualcuno alla torre non la mette per andare in serie. Ma perché eravamo attaccati con la passiva di Ashe. Non ho visto che erano morti. Cioè, non c'erano morti. Se trovo il cimelio in questo pacchetto... Oh, doppia leggendaria! Oh! Oh! Skin di Vantage e sfondo di Ballistica. Quindi ora devi usare o Vantage o Ballistica. No, non funziona così. Doppia leggendaria è una sub. Credo di no. Forse è stata tripla, sì. Sì. Ma che bella sta... Guarda sta skin di Ashe. Bellissima. Che bella! È molto bella. Minchia. Adesso con questa secondo me è per spormi. Sì? Forse, sì. Sennò c'è quella granchio che a me piace un casino. No, no. Quella è perfetta, secondo me. Questa? Sennò aspetta. No, sì. Questa è molto bella. Di che evento era questa? Molto bella. Molto bella. Molto bella. Moltissimo. Giocatori in coda 4. Siamo noi tre più un altro. Chi te lo dice? Eh beh, siamo in 4. Ora siamo in 7. È aggiornato un altro full team, sì. Non è un full team, ma sono tre. Tre. Passiamo in 4. Sì, va bene. Concordo. Ehi, Nico, mi shoppi la skin di Fuse? Certo. Ma diventeresti me in Fuse se te lascio passi? Certo. Cioè, tipo, quante kill ci faresti? Bah, direi 5.000. Non ci credo. Cioè, secondo me non lo fai. Certo che lo faccio. Ma non è vero. Ma non è mai vero. Cioè, 5.000 kill su Fuse, boh. Cioè, secondo me ti rompi le palle prima. Fuse è divertente. No, Fuse è divertente, sì. La skin è pure bellina. Esatto. Professor Fitzroy. Però non so. 16, sì. Beh, che era skin del PK. 14. Un team è andato via. Eh, la skin del PK la vorrei vedere in game. Secondo me è carina. Eh, secondo me, allora, mi shoppi il bundle, poi ti posso solpire la skin del PK e la provi. Beh, sì, appunto. Mi sembra una mossa intelligente, cioè... Oppure, oppure, mi prendi il 100 pack Apex per il content. Cioè, il bundle da 100? Eh, non l'hanno messo. L'avessero messo, che non c'è. Eh, sì, qua fai tipo acquista, c'è 100 pack. Eh, ma è a prezzo pieno. Cioè, costa tantissimo. È un bundle, però. No, non è un bundle. Cioè... Eh, sì, è 100 pack, 10.000. Nico, puoi chiedere un attimo a Pandiz e Davidotti di rispondermi? Ehm, qual è la domanda? Chi ha? Ed Cup. Sì, soprattutto. Che cosa vuole? Però, cavolo, Davidotti, hai tolto il pronto e... Cioè... 31, vedi? È stato tutta una tattica. Ma non è vero, perché la lobby è sempre quella. Se ora tolgo e rimetto, saremo 31, 34. Dai, Nico, però che basta. Vedi? La lobby è sempre quella. 35, hai detto 34. Trolli. Vabbè, dai. È che sì... Ma cos'è che vuole Ed? Non ho capito. Quale era la domanda? Eh, se gli rispondete. Ok. Sì. Sì. Aspetta. Bravo, Davidotti, ottimo gioco di squadra. Una risposta seguitanea. Però la costruzione, il problema è che non mi basta neanche la lana che ho e sapete quante ne ho. Vabbè, vi vuole rubare la lana dalle casse. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Le costruzioni di Ed o sai quali sono, Nico? Ecco. Eh, sì, tipo, secondo me fai... Tutorial di YouTube e... Pixel art con tutorial di YouTube? Sì, è terra. Eh, pixel art è ancora no, però la casa che ha fatto col tutorial di YouTube l'ha fatto. È bella almeno. Completamente. Sì, però è tutto... Bella rovinata lui con le sue costruzioni del cazzo. Vabbè, ma il tutorial su YouTube, se fai le costruzioni col tutorial non vale. Cioè... Poi, sincero, le pixel art fanno cagare ormai. Cioè, la vera art è farle tridimensionali. Che cazzo sono le pixel art di YouTube? Vuole fare un ragazzo di chi fanno cagare. Poi voglio fare una pixel art con la faccia di Nico. Sarebbe molto bella. Se lo faccio, Nico? Se lo faccio, Nico? Crea un server e usiamo quello come mondo, se lo fai. Ma lo facciamo nel mondo che ho fatto io? Cioè, Rialm. Eh, sì, sì. Cioè... Eh, ma hai trasformato il tuo Rialm nel server ufficiale. Eh, no, ci possono giocare solo fino a dieci persone. Ma no, ma compriamo un server e trasferiamo il backup del tuo Rialm. Ah. Eh, ecco, ho elaborato. Che cosa è un server? Eh, praticamente sì. Ah. Quanto costa il server? Ma... Si può fare anche gratis. 400? Di più. Che armi avete? 30-30 P-20. Alternator P-skipper. Io P-20 M-lock. Allora sono sotto? Cioè, sì, penso, Davidotti sta sparando sotto. Sotto da me, o sotto dall'altra parte. Da noi. E hanno le blu, le viola, qua. Qua c'è una viola. God. Il brother poteva soppare la viola pure, insomma. Ehi, canaglia, dove scappi? Un minuto è la chiusura dell'anello. C'è tempo per saccheggiare. Sotto da me! Non mi scappi! Non mi scappi! Non mi scappi! Non mi scappi! Granata a frammentazione! Ma sono due team? No, no. Sono rimasti solo loro due. Vorranno fare il giro da sopra, da Pandits, penso. Sì, sono già andati sopra. Arrivo ad aiutare Pandits, allora. Sono ancora più sopra di loro, però. Merda! Sì, sono due team, mi sa. Eh, te l'ho detto io che sono due team. Vedi? Tu non mi credi. Pandits è la troll. Ma lui non mi crede. Io l'avevo detto, io l'avevo detto che erano due team. Cioè, boh, a sto punto... Ah, non mi ha mai colpito. Non c'è a me. Ma credo lo stessi andando. No, no, stava mirando a me, secondo me. Sono scesi di nuovo. No, un è sopra. Va bene. Ci sono, Pan? Da me? Sì, sì, qua sopra di me. One 135 bianco a parte. Sono morto, sono morto. Sono stato verso di qua. E che palla. No, ma non era un altro team allora. Cioè, erano sempre... Era il team mate, sì. Non è facile lasciarmi in tutto. Ricarico il discurso. Boh. Ma qui, erano fatti ben colori e basta. La fake call di Pandits. Tirò al piattello. La fake calls di Pandits. Incredibile. Mi fai illusi. Che c'è al crafting? Che non mi ricordo mai. Ah, la mozza ambicolata. No, proprio perché sono un arcatino che vorrei mettere. Mettilo, mettilo. Mettilo. Non me la dedichi la tripla. E prima bisogna farla, però. Mi tocca... Mi tocca. C'è un alternator? C'è un alternator? C'è un alternator? Mi pare di sì. Noi vogliamo solide certezze. Io però non ho shield. Questo è un grandissimo problema. Ma no, vai tranquillo. Mi farò un kit fenice, mi so. Ma no, vai tranquillo. Ash, sì, nuovo main. Davidotti mi ruba Mirage, quindi devo giocare altre leggende. E non ho voglia di giocare... Chi è che ha più kill? Eh, non mi ricordo. Eh. Quanto è nato unico con Mirage? Non mi ricordo. Sì, può essere. No, va bene. Anche... Si sa qua. Sì, però in poche partite, cioè... Wow. Eh, sì. Wow. Eh, sì. Si stanno killando qua davanti. Ora vi dico dove. Qua. A rete elettrica. Non è proprio qua davanti, eh. Eh. Mi state citando? Come fa a saperlo? Sì. Quando il SSW è un altern... È un M. Io ho la mia bellissima alternator. No, quella è la mia carabinissima. È la mia carabinissima. Caricatore viola per fuori a scudi. C'è una viola qui. Grazie. Come hai fatto io? Non importa. Ignoralo. Eh, io ho le hack. Vedo altre. Le hack. Le hack. Le hack. Mi hanno segnalato questo giocatore per l'utilizzo di x-ray nel mio server. Quindi io mi sono tippato dietro di lui. Guardate. Guardate. Ha appena trovato un diamante. Usa palesemente l'x-ray. Per ogni like a questo shorts un'ora di prigione. Quattro milioni di line. Possiamo farlo con Edo, se vuoi, Davidotti. Eh, ma non siamo in due. Abbiamo tutta la community di Nico che ci sosterrà. Ok. Concordo. 70.000... 80.000 ore. Che poi in realtà non è più la community di Nico ma la community di Pandit, però... È vero. Diciamo, ma... Pandit, mi serve uno stabilizzatore canna. Tieni. Grazie. Grazie. Andiamo per di qua, che stavano fightando proprio qua a rete elettrica. Quindi... Io vedo una carabina, per favore. Li troviamo, secondo me. Mi trovo della troll. Ma Nico... Mi sta conducendo verso gli avversari. Grazie alla passiva della sua fortissima leggenda. È ora di fare un po' di shopping. Ma... Sì. Grazie. Più che altro se Pandit ci fa sgamare con questi mercati, rovina tutta la mia strategia. Ah, sì. Ah, sì. Per me dovremmo rattare. No. Ormai ci giocano così. Immagino rattare. Veramente. Immagina veramente. No, grazie. Come se avesse accettato. Come di tutto un buo. Ah, qua a sinistra proprio. Ma sparano all'esca? Ma io sono di... Sì. Non la fanno prendere. Cioè, non hanno ancora capito che è un'esca. Eh, c'è un contino a destra che arriva con la zipline. Cioè, questi saranno convinti che quello fosse un mirage vero. Eh, ormai no. Ora no. Però questo ci saranno. C'è un contino a destra che ha un visco la zipline. Se ne vanno questi. Sì, se ne vanno. E' viola. Vabbè, l'esca è la ferma, però. Ma sparavano all'esca di nuovo? Insomma. Però a me in movimento colpiscono, all'esca ferma no. Vabbè. Cioè, mi sa fai torre. Eh, boh. Ma io forse salirei da qua? Andate da là voi? Dalla zipline, nico. Arrivo. Cioè, più che altro, boh, da qua mi sparavano. Però adesso a voi non sparano. Una cosa veramente... Veramente. No. Cavolo. Cavoletti, Davidotti. Cioè, pandiz. Pandiz. Gli ho retto l'asino. Eh sì, ma... Cioè, ne ho tanti qua da me. Ehm... Come tanti. Sì, Davidotti, levati, vai via. Cioè, tra sta. È full team qua. Allora, se Davidotti fa la tripla, tolgo il moda pandiz e lo do a lui. No. Ehm... Sì, ma cos'è successo? Sì, ma io non ho capito perché due se ne... Ehi, pandiz la trolla. Pandiz la trolla. Pandiz la trolla. No, no, no. No, no. Era rimasto lì. No, pandiz la trolla. No, no. Però almeno, no, hanno fatto zero danni, hanno fatto anche due kill. Pandiz la trolla. No, pandiz... No, no, no. Basta. No, basta. Incredibile, Pandiz, però. È un cassuro che la gente non sa più a giocare. Cioè, i suoi compagni se ne sono andati. Ma in verità, ok, non sa giocare. Però t'ha ucciso. Quindi, secondo me, sapeva giocare. Sì. E per quelli due che ti hanno aspettato sulle scale. Eh? Poi l'hai detto. Predator hai detto che non sapevano giocare. Però ti hanno ucciso. Cioè, stesso ragionamento. Ma non ho mai detto che non sanno giocare. Cioè, se guarda come giocano, hai detto il senso... Eh sì. Ma comunque... No, non l'ho mai detto in quel senso, Pandiz. Se lì fosse arrivato un full team aggressivo... Eh, Pandiz... Se lo sarebbero fatti, avrebbe trollato la partita quello lì. Cioè, che senso ha rimanere indietro? Ha senso, perché ti ha ucciso. Non puoi provare il nuovo main Mirage. Ok. Dimmi. Io non uso più l'Oba, basta. Eh, cioè, più che altro... Il problema è l'Oba con la sua texture. Ti distrae? Se muori, regali una sub. No. Ma perché vedono... Non ci sto. Vedono le boops e mi marchiano. Non ci sto. Perché siamo in ranked ed è al 90% che moriamo. Quindi, cioè, non mi sembra legge. Perché non ho scommesso? Eh? Hai calcolato il 90%? No, ho calcolato. Ci ho dato un 10% di winrate. Perché non ho 89? Ho 99. Perché mi sembrerebbe eccessivo. Comunque, beh, l'esserebbe anche ad argento. Sì, sì. Ma non esistono le lobby argento. Cioè, sono tutti uguali. Forse... Eh, ma non ha senso, infatti. Ma, beh, il sistema che hanno deciso di fare. Cioè, la prima è stata veramente divertente come partita. Poi siamo andati solo a calcalare. Eh, sì, ma anche le... Guarda, io ti dico, le prime tre sono state divertenti pure. Andiamo sopra. C'è uno, Nico. Trenta bianco. Eh, zero armi. Zero armi, due casse. Se ne scappa, l'ho crackato. Io non ho un'arma. Io non ho un'arma. Ne ho preso uno. Dopo il po'. Mi è che c'è un'arma da più. Eh, un'arma, non è più troppo il 60 gol. Ci sono un nemico. Ho trovato. Qua davanti, Pam? Sono in due, Pam. E' viola. Ah, sì, ma... One shot. Eh, sì, però è nella... Vai fuori, vai fuori, ti resto. Hai lo swap di questo? Uno push a te. Preso quello fu il viola. Oh, my God. Trenta play one. Eh, vabbè, suoppati l'altro, l'altro, non il pack l'altro. Beh, la te io. Ci sta corando dentro. Dov'è? È un altro team, è arrivato un altro team. Eh, ma cazzo, dillo prima. Sì, è un altro team. Allora andiamo di qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Io forse sono scappato. Ah. Che culo che il pack... Il pack a Romor Viola è arrivato tirando il pugno all'aria, minchia. No, no, l'ha tirata a me. Aspetta. No. Era da correre. È che volevo provare a fare il giro per prendere Panditz. Ma non è fattibile. Ma sono restabile in realtà, questi qua non stanno guardando. Stanno guardando voi. Eh, vado a craftarvi. Ma non è riprendibile, no? Ma non è grande, grande. Ma non li stai crollando! Stai crollando, guarda. 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 Davvero? Dove vi posso craftare? Ragazzi, grazie, grande, grande. Ragazzi, io penso al team a salvare la partita. Che pagliacci. Dove vi posso craftare? Avevo anche il res portatile. Eh, non lo so, non siamo morti. A centrale solare. Ma io predico il futuro. Piazza di bonsai. Può terminare. Ragazzi, sono io. Top 19 non mi salverò, non vi crafterò mai. È impossibile. Top 19 non mi crafterò mai. È impossibile proprio. Che mentalità da perdente. No, non vi cra... È impossibile. Cioè, siamo io... Ah, ma che tu, chi è il Nico? Che ti sei fatto? Eh, il pat e il compagno di pat... E l'horizon. Sì. Grande. No. Cioè, ne ho fatti due full. Sì, l'horizon ho fatto io, sì. Pat e horizon ho fatto. Ma io avevo una kill. Davvero? Su chi? Mi pare di sì. No, no. Ne avevi zero, mi sa. Ma forse era l'assist. Può essere. Beh, sarebbe strano perché non hai mai colpito quelli. Su chi l'hai fatto l'assist? Eh, ma mica, avevo 300 danni. Mi sono proprio scomati. Tipo il pat l'ho lasciato a 10 di vita. Probabilmente il pat. Beh, va bene, dai. Quando era full viola, l'ho fatto tipo 180. Eh, sì. Pandezorio è scoperto, l'ho fatto. Mamma mia. Un po' di quel pelato, va. Esatto, Davido ti gli avrà mandato la clip di io che lo lasciava col Trident. Ma perché stai camminando? Cioè, corri? Esatto, a parte qui. Beh, bella, Dani. Che stronzo. Che stronzo. Godo. Ha messo pure il turbo. Ma stai trollando? Push ali. Ma non penso Pandez, cioè. Nico, che la troll. Qui, se no, a laboratori. Lì non c'è nessuno. A giardini, se no. Eh, a sinistra, a sinistra, Nico. Fai finta di essere un'esca, magari non ti sparano. Mettiti gli attaccato un muro. Comunque la Bangalore triva Fred. Allora, il piano è craftar di fuori safe là, fidati. C'è la carta, dalla lollo. Eh, 900.000 danni in arena. Wow. Che bello sto heirloom. Sì, ce l'hai? C'è un minacone di heirloom. No, mi è caduto! No. Cazzo. Sarò anche piccolo, ma ho ancora un eco gigantesco. E che bella, mi è piaciuta questa battuta. Sì? Dovrebbero averne uno per me. Do do do, do do. Attento che ti cade di nuovo. Ah! Salvato. Dai, Nico, però se non ti metto veramente tossico, ce la facei a craftare. Immagina a craftare. Ma veramente, Nico, ma vai a morire. Che tosto. Tanto cosa pensi di fare? Anche rattando, cioè... Ma io vi voglio... Vi voglio craftare. Fai finta di essere un'esca, non ti prendono. Qua ti vedono. Attento, ma che ti prendono. Non ce l'hanno. E il problema è che ho solo una siringa. Cioè, è veramente poco come cura, no? Ok. Ok. Veramente buono. Va bene. Andiamo. Shit teammate. Yes, godo. Ah! Qua tocca salvarvi la vita, come sempre. Andiamo, dai. Craftarmi banner. Un medikit. Ah, devo rimettermi in sesto. Vi respuno qua dietro? Vi respuno. Sì. Ok, ok. Attento che muori, se non ti curi. Oh, oui. Quattro siringhe. Vi respuno e torno a craftare. Mi sembra... Ciao, filosofo. Ma a parte la... No, raga, vi respuno in safe. A parte la seconda, tra poco non ce la fate. Eppure voi che mi dite di sì, mannaggia. Immagina. Immagina. Secondo me me l'avete fatta trollare a craftarvi qua. Vi posso respunare a spaccatura. Se prendo il portale vi respuno a spaccatura. Là sopra. Siamo in top 14. Ci sarà palesemente un team. Bella Edo. Edo che va a arrancare con stack e c'è mortal. Ah, sono entrato in safe, finalmente. A quanto parla, sì. Cavolo, peccato. Se solo avessi... Non avessi usato il turbo nel Trident, saremmo stati in due. Peccato, veramente. Secondo me, qua. Easy. Attento, Nico. Facile kill per Nico. Nico, se lo vedi come si chiamano i miei due cavalli su Minecraft, ti danno due sub. Davidotti e Nico. No, Armano ed Armanito. Non è vero. Armanito ed Armanito. Esatto. Sono invisibile. No, Nicolás. No, no, stai trollando. Stai trollando. No, no, grande. Madonna, se sono... No, no. No! Predicte delle loro kill, una 0-0. Una. 0-0. Let's go. Dove è uno? Eh, uno a 0-0 ne avevano. Easy. Ah, quelle degli avversari. Quelle degli avversari, sì, sì. Uno a 0-0. Dai, godo che ci siano morti, sinceramente. Sì, ma possiamo fare una partita come la prima. Ho capito, ma ragazzi, cioè, io ci provo. Ma Nico trovo... Cioè, Davidotti fa 50 danni quando usa le 100 di queste da mira. Si può salire sul trailer, intanto erano i 59, appunto. Cioè, io ci provo, c'avevo 3 kill, io ci provo, però... Non mi hai fatto salire, guarda Telegram. Cioè, io ci provo, però, cavolo... Cioè, è veramente difficile in uno contro tre contro i Predator. Sì, sì. No, è veramente complicato. Eh... Insomma... Vediamo. 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 Ma la tua visuale? Sì. Davidotti. Anello in chiusura. Ma dai, Davidotti, mi stavano già sparando. Non ce l'avrei fatta, no. Stavano sparando a me. No, non ce l'avrei fatta. Sì, sì. Sarebbe stato troppo rischioso. Ma poi tu potevi collarlo, cioè, potevi dire, migliorci meglio... Non avevo idea, tu stessi prendendo il trailer. È perché, ma vedi, allora vuol dire che tu non lo volevi prendere. No, sei tu che hai deciso di prenderlo. No, e allora, se tu non lo volevi prendere, di conseguenza, non ti puoi lamentare che io non ti abbia fatto salire. Reporting. Comunque, praticamente, c'è un trucco su Apex per giocare bene, che sarebbe fare più di 59 danni. E praticamente, cioè, mi dicono che se fai più di 59 danni, poi le partite finiscono meglio, eh. Godo, cioè, stai che c'è in lobby, sicuro. Giocatori in coda, easy, sarà palese con noi. Godo. Let's go. È perché Godi che ci ucciderà. Dai, no, dai, pandiz. Fermo a banna se ci uccide. Se ci uccide, lo banniamo, stream sniping. Dai, Nico, chi uso? Eh, pandit. Il tuo main? Catalyst. Fidati, Catalyst, fidati. Revenant. No, usa Catalyst. Catalyst. Ma cosa toglie il pronto questo? Sì, era. L'ho trollata. Ma, oh, ma, aspetta, Davidotti è argento 2, ok. Ma ce la fa sto argento 3, figa, a mettere pronto, almeno? Cioè, ho messo pronto. Ce l'ho il pronto. Ma perché dobbiamo giocare con sto argento 3? Ex oro, eh, porta un po' di rispetto. Ah, non me ne ero accorto, eh, ma perché non ce l'hai nel banner di Newcastle. Bella, Elia. Posso vedere col banner del mio main. Eccolo! Dai, stagge, minchia, spero di finire in partita con lui. Anche io, almeno lo uccidiamo e gli ti pegiamo sulla casa. Almeno abbiamo tre punti, minchia. Speriamo, per favore. No, niente. No. Ma perché avete l'MMR più basso. Vi metto in lobby diverse, non sto trollando. Perché vi metto in lobby diverse dalle nostre. Il mio 2,81 si è abbassato, Nico, questa stagione. Davvero? Quanto? Eh, anche il 2,79, l'Era, il 2,78. Cavolo. Male male. Male male. E quando è che 4K su Horizon? È letteralmente la seconda leggenda di quelli ho fatto. Letteralmente. No, non ho fatto una semplice. Sì, ma minchia, veramente. Ma perché è così aggressivo? Non ho problemi. Con il Jump Master, il divertimento è assicurato. Stavo pensando. Molo. Non diventerò meglio questo, però lo posso trovare. Hola. Hola, pandits. Come stas? Bien. Che pasa? Yes. Yes. Tranquillo, il 30-30. Tranquillo, il 30-30 anch'io? Tranquillo, il Mastiff. Eeeh. 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 Il Mastiff. Ai 4K mi mancano 4 leggende. Eeeh. 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 Bello quello, eh? Eeeh. Ma sono tipo 3 team, eh? Può essere. Vediamo che 3. Ma secondo me no. Cioè, secondo me no. Eh sì. Epa, andiz la trolla? No. No? Un red è andato verso sinistra. Tranquilli, ci pensa unico Corradius. Dove l'ha trovata? Lì al ping rosso. Non lo vedo il ping rosso. Ah, lì a sinistra. Si stanno fightando. E' entrato da sotto. Senti, c'è un flash. A chi? Ho frantumato l'altro suo nemico. Ricarico. Sta arrivando una caccia. Sta arrivando una caccia. Guarda, 4 flash. 150 Revenant. Guarda, abbiamo un po' per viola, mi pare. Sì, io ho fatto 150 rev viola. Ah, lo sapevo. Bella, bisello. Ricarico gli scudi. One shot la Bangalore. Proprio di fronte al mezzo. Un altro squadro di tanta canta. Un maledizione. È un altro team, scuso. Sì, Davidotti, occhio, occhio, occhio. È arrivato un altro team. Sì, è un altro team a Darling. Ma non c'è mai. Eh, schifo. Ma cadi qua, proprio. Dovrebbe essere una caccia viola. E' un po' ci verrà qui. C'è un mirasco sotto. Loro hanno finito. Qua dentro c'è un coltivo. Eh, lo so, ma ci sono almeno due team, almeno. Attenzione. Anello in movimento. Già nel prossimo anello. No, c'ha uno di vita al rap viola. Triple red. Era da solo pure, che sfiga. Eh, tutte 2-0 kill, però. Eh, però i danni... Eh, cavolo. Godo, 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 godo. Eh, ma i danni finché non ne knocki o killi uno. È vero, è vero, è vero, no, è vero. Eh, però, ragazzi, cioè, vi siete proprio buttati nella casa dove c'erano due team. Secondo me è una mossa birbina. E poi, Davidotti, tipo, 4 knock e 0 knock. No, cioè, secondo me è quella veramente una mossa birbina. A buttarsi in quella casa non andava fatta, cioè. Ma sei tu che hai pushato tutto il tempo un Ravenant. Ma non è vero, ma io non ho pushato nessuno. Io stavo alla casa di fianco dove stavamo veramente bene. Poi siamo ieri che non ho avessi. No, 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 guarda, tant'è che dove mi sono messo io alla casa ho addirittura craccato tre persone dell'altro team pure. Fossimo stati tutti e tre, guarda. Secondo me, fossimo stati tutti e tre alla casa mia, lì, qualcosina. Eh, sì, anche secondo me. Eh, forse. Non voglio da solo Katalist, perché dobbiamo andare qui. Tanto, Lollo, tipo, 4 anni. Eh, ma io te lo dissi, io te lo dissi, io te lo dissi. Da quant'è che sei pelato? No, che sono main mirage. Due anni. Ma da quant'è che sei pelato? Due mesi e mezzo. Però io te lo dissi subito di mettere Katalist, perché non la misi? Ma perché non hai le venti bombe equipaggiate? Perché poi la gente mi ti bag. Appena faccio una minima cazzata, perché molto spesso faccio cazzare. Ma fa bene. Ok, ma fa bene. Sì, ma poi Tito mi viene voglia di cambiare gioco e... Vabbè, immagina. Cioè, togliere le venti bombe per non essere ti baggato, male male. Io tolgo tutto, cioè, se guardi il banner di Mirage non c'è niente. Eh, bravo, ho capito la tattica. Ma non è vero, c'hai le kill. Vabbè, le kill, però, venti bombe, quattro gaffa e dieci di scordo non le metto. Ma perché? Allora, i quattro gaffa e dieci, dieci, dieci sono facili da fare, quindi il fluxo. Vabbè, sì, cioè, non vedo molto il senso. Però va bene. Ma tu non hai capito che non si è preso a male parole. Cavolo, siamo in 107. Da quanti deve essere questa partita? Cioè, mi sembra un po' esagerato. Cosa chiedere, Nico? Nico, secondo te il vero nome di Davide Otti qual è? Davide Otti. Fabrizio. Fabrizio Romano. Sì. No. Joshua. Oh my God! Joshua. Dovino come si chiama il cavallo di Edo? Grazie, Angie, per la resab. Grazie, Angie, grazie per la resab. Il cavallo di Edo, secondo me, si chiama Pallino. No, Davide Otti, coglione. E ste che c'è. Questo è ciò che continua a ripetere. Ma io l'avevo detto, però. Perché però fa schifo. No, è la Davide Otti che faceva schifo. Sta che c'è, salta in alto. Sì? Ma il mio salta però il più in alto di qui. Sì, Nico, c'è il cavallo di Davide Otti che salta e ti fa 5 blocchi di altezza. Vabbè, ma è fortissimo. Sì, si chiama Lollo. Sì, assurdo. Si chiama come? E si chiamerà Joshua. Perché Joshua? Così. E perché no? Perché, sì. Come lo chiamo? Fabrizio Moro. Sì, non sarebbe male. Io lo chiamerei... Meno d'Angelo. Sì. Lo chiamerei Gabby. Oddio, ma il nostro teammate è italiano. Ha scritto in italiano. 20 bombe ora, appunto. Vabbè, questo. Insomma. Gliele rubiamo apposta, così non le fa. Ma mica per me... Per Davide Otti col suo nuovo meno. Ah. Ma io ce l'ho sottofattato alle gemme. Ma l'equipaggio per togliermi. Ma te l'ho sottofattato sul team. Sì. Sì? Io sono messo veramente benissimo. Io ho benino. Benino? Enlock dorato. Eh, tu sei messo benissimo, allora. Scendo qua. Ma non c'erano scudi? No. Faitano qua sopra. Per lo meno sotto. Eh, stanno sparando a me. Ah. Allora, aspetta. Caricherò questa. 126 di centinaio. Vai. Imbuscino, imbuscino. Aspetta che scendano tanto. Non sparare appena scendono. Aspetta. Fidati, lo fanno, lo fanno. Aspetta che arrivino qui davanti. Aspetta, aspetta. Due. Vai. L'hanno fatto. Aspetta, 101. Beh, un imbush finito abbastanza male, devo dire. Un imbush finito parecchio male, Davidotti. No, vabbè. Un imbush finito in modo pessimo. Non dovevo sparare di rampage, cavolo. Panditz, siamo tutti nelle tue mani. Cioè, no, veramente, non ho parole. Ma... Perché va prolly? Ma no, ma perché... Sì, morire facendo imbush greva, però... Perché io ero indeciso a quale sparare, perché sono scesi tutti e tre insieme. Qua avevo il dubbio, infatti. Non sapevo. Poi mi sono affacciato una volta, non sapevo se mi avessero visto. No, non mi avevano visto. Eh sì, è veramente greva. Però... Vabbè, per fortuna che c'è Panditz. È no loot! Facile per Panditz, tutto programmato. C-crafta i banner. C-respawna. Abbiamo loot viola garantito dietro. Mi sa che devi scappare. Oppure fingerti un'esca di mirage. Oppure tutte e due. Sì, scappa fingendoti un'esca di mirage. Corri dritto. Vai. No, non devi cadere nel vuoto. Occhio. Ok. Cioè, rete elettrica ci puoi craftare. O a spaccatura. Ma vi ho fatto qui. Qui? Sì, può essere. Io ho biancia. Ma... Dov'è che si vedevano i danni di quello che aspetti? Non li vedi perché non ne ho. Ah, ne ho i zero? Shit di me. Mamma mia. Ma perché me lo faccio? Guardate come avete fatto a morire in un ambush e non avete noccato manco uno. Ehm, ma perché... Perché abbiamo solo quattizze diverse. Ehm... 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 Beh, vabbè, ma che vuol dire? Non piangere, dai. Cioè... Cioè, mi sembra veramente infantile. Guarda. Bello. Bellissimo. Questa è monico per far giocare stack. Guarda, che c'è velocità? Eh, sei tipo... Come si chiama? Kenshiro, Rial... Quello... Nei presente? Nei presente? Quello che rompe le bottiglie d'acqua... Che fa le speedrun... Quanti danni hai tu, Davidotti? Quanti danni hai tu? Ok, god, non 111. Io 74. Mi insegni? Ok. Con R2 spari. Ah, grazie. Eh, ma io... Io l'ho fatto, cioè, ho sparato, però... E se potevi prenderle... Ah, cavolo. No, perché... Cioè, io ho sparato, ma ho comunque meno danni di te. Eh... Devi prendere le persone. Ah, ok. Devi che si fanno dura. Ok, sì. Mi ha giocato un po' troppo. Va bene. Ciao, Cav. Grazie per i due mesi di resab. Non è per tutti. Vabbè, ma quello che mi ha ucciso è diventato chi leader. Allora son perdonato, dai. Vado a prendere la corazza dorata. Se permettete, eh. Se la volessi io. No, ovviamente no. Prenoto. Anche io. Non è uscita. Vabbè, incredibile. Non è uscita. Incredibile. 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 Una volta che lo tu io qua dietro non c'è la corazza. Incredibile. Non me ne c'è la blu. Incredibile. L'ho trovata, sì. Sono troppo fuori. Troppo, troppo, troppo. Troppo, troppo, troppo. Cos'è quale se metto wallax. X-Ray? No, no. È in go. Qui c'è uno scudo E. Mi, mi vuole dirti che ti devo segnalare all'admin? Con l'avoc non vuoi essere così preciso. La carabina si scollava con me. Impossibile. Per forza. Eh, usa lane assist. Sì, secondo me usa quella che lì, lane assist. Non ho ancora avuto l'occasione di provare il mio abissumo M-Block leggendario. Eh, non è ancora sparato. Dovresti sparare con R2. Eh, lui ne ha zero. Veramente. Cioè, più che altro, io l'avevo detto che sarebbe successo questo a giocare con un Argento 3. Tu non mi hai voluto credere. Eccoci qua. Zero danni. Boh. Gli Argento 3 una volta, secondo me, erano più forti, però, eh. Di così. Sì. Sì, secondo me è un po' calato il livello, sì. Ma le Ranked sono anche più semplici adesso. Non siamo tutti. Eh. Tuttegono ad Argento ormai. Eh, quello che una volta era un Rank è morto. Guarda, adesso. Sì, ma io sono qua. E tu? Bannus, dove sei? Te li trovi adesso, ne ho fatto tempo. Non li vero. Non ci sono. Non li vedo. Stanno arrivando. Infatti sono qua. Sì. C'è gente qua? In casa. Proviamo a fare loro, che sono camperati in casa? Ok, è una brutta sensazione. Crackato uno. Il path. Era oro. Come cazzo era imbushato questo? Ma il teammate del path, sì, vero? Eh, spero di sì. Boh, vabbè, insomma. Mi son cagato addosso. Sì, veramente. Vabbè, vedi, anche a lui non è uscito l'imbush. Non solo a noi, allora. Cioè, mi sento un po' meno solo, allora, adesso. Eh, il path è scappato, l'avevo craccato. Però è fuggito, mi è scappato. Davanti a me, sì. Cioè, io mi avvicinerei. Mi avvicino. Mi avvicinassi qua. Vanno anche sopra. Eh, da qua non ho visuale. Però posso andare qua. Che forse ce l'avrò. Siamo in top 10, ragazzi. Siamo in positivo. Bravissimi. Siamo in effettivamente allo stesso posto. Sì, davanti a me. 130 alla Bangalore Viola. Craccato un altro. No, no, craccati due. No, vabbè, andiamo di qua. Siamo qua, siamo qua, siamo qua. Craccato Bangalore, break. Viola uno blu. Ah, va bene, così. Vabbè. Occhio, occhio, occhio. Craccato Horizon. Bravissimo, pandiz. Grazie. Che fastidioso l'Hemlock. Occhio, Nicola. Va bene. Ma uno fa fucire. L'avrei. Abbiamo gente, abbiamo gente da dove siamo arrivati. Perché non mi lancia la pericola? Siamo in casa? Dopo. No, ho detto noi stiamo in casa, stiamo in casa noi. Uldala, ok, perfetto. L'ho distrutto. Siamo in casa, stiamo in casa. Posso ultare? Posso ultare? Ma sti cazzi, stiamo in casa. Cioè, sì, se vuoi fallo, ma... Buono, non so. Cioè, sì, sei tu il main Bangalore. Facciamo così. Oh, 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 oh. Siamo in safe anche. Dobbiamo recuperare i points. Vado a prendere la capsula. Qua siamo in safe anche alla prossima, dobbiamo stare qua. Loro sono ancora là? No, vero? Munizioni c'è che non ci sono? E io ho zero pesanti, invece. Eh, tieni. Ah, io ho il boccale. No, vabbè, mollo, 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 mollo. Tieni pure. Prendo il radius. Che toss. Eh, lo so. Doppio radius. Sì, ci sta. Grave, questo, però. Eh, vabbè, però... Eh, non è grave. Eh, lo so, però succede, cioè, non... Avevo zero colpi pesanti. Non c'era... Non c'era un'alternativa, purtroppo. Sono qua in tre. Ne ho uno qui. Quasi colpito, ragazzi. One. 87 rosso. Eh. Quanti quanti ha il cecchino? 20. 144 viola. Non c'è che è forte il radius. Eh, però... Soltanto che adesso spara con la raduta dentro gli altri. Vabbè, ma chi se ne frega, sincero. Cioè, è rotto uguale. Sto ricaricando il disco lì. Cioè, da fuori sei. Io, però, sono messo veramente male. Ho zero celli e zero batteri. Celli, te ne posso dare due. Grazie mille. Che male. Grazie mille. Ti giuro, sembrava una persona. Invece che cos'è? No, invece era... Non lo so. Invece non era una persona. Cioè, non so cosa fosse, ma non era una persona. Cavolo. Top 8, secondo me... Ah, c'è qualcuno qua dietro, eh. Ok, ma non è tranquillamente qua dentro. Potrebbe essere. Io darei un'occhiata qua dietro, che se siamo liberi qua, non è male. Cioè... 16-24, mancano tre persone. Eh. Un ratto e una duo. Oh, tre duo. Oppure tre ratte. Oppure cinque ratte. No, impossibile. Oppure dieci ratte. Impossibile. Tutto è possibile. Impossibile, pandis. Se lo vuoi, lo farai. No. Hai pagato lì a notte a destra. Eh, quello potrebbe essere. Cioè... Non mi sorprenderai. Eh. Cosa ti sorprende? Eh... Le mucche volanti. Beh. Che bello. Ciao, Shinigami. Avete trovato l'isola delle mucche fungo su... Eh, no. No, non ancora. Che nabbi. 158. Che c'è là dentro che avete trovato? Prowler. Prowler. E non lo prendete? Se vuoi te lo lascio. Lo prendo, lo prendo io. Io automatico non ho la frozen jokard. Ma minchè, mancino a lasciare il Prowler è veramente l'arma più forte del gioco. Ho lasciato un Avok e ho 240 energy. Vuoi, Davidotti? Avok con 240 colpi. Perché a te non piace l'avok? Cioè... Ti piace più prima, adesso il radius. Prima era più forte, adesso è più divertente, secondo me. Minchè, ho appena fatto 158. Ma è io 144 prima, ma dipende. Infatti in certe situazioni è più forte prima, in certe situazioni ora. Cioè, adesso è più difficile colpire, però è più forte. Però è da lontano è veramente difficile, soprattutto senza mirini. Oh, oh, oh. Buonico. Ma raga, questo è in solo, lo dobbiamo fare. Facciamo questo, facciamo questo. Eh sì, però... Ma non era in solo? Qua dietro siete safe. Qua dietro siamo safe. Ho una cella, non mi posso pullare. Siamo qua, occhio, non prendete i danni. Anche perché non ho... Ho cercato quello solo. Io ho zero scudi, infatti. Eh, ragazzi, posso dare delle cellette, ma ho finito tutto anch'io. Allora siamo fermi, stiamo immobili qua, non fightiamo. Non fightiamo, solo se ci pushano fightiamo, se non no. Davanti, davanti a me. Ok, ignora, ignora, non dobbiamo fightare. Se ci pushano loro, sì. Ah. Ma in teoria gli sparan gli altri se arrivano qua, dai. Eh, va col cazzo. Eh, minchia, avere l'oba qua avrebbe carriato per gli scudi. Perché non hai l'oba qua? Veramente, Catalyst è stata inutile. Ma cosa? Cioè, l'oba... Aspetta di vedere il muro che ti farò tra poco per vincere. Va bene. Cioè, io spero non lo facciano. Lo fanno, secondo me, lo fanno. Stanno pushando. Hai il minaccia, io c'ho... Ce l'ho il minaccia, sì. Boh, si trollerebbero completamente la partita loro, però. Sono qui sotto, ragazzi. Eh, lo so, lo so. No, Panditz. Si sparan tra di loro pure, si sparan tra di loro. Ma si pusha. Eh, non ho scudi, non ho scudi. Sei una battery, Panditz? Panditz, hai una battery? No, finito tutto. Zero cura. Ma gli altri team, tiga? Bravo. Può c'è il redone qua. No, è morto da Nell'Uno. È svuoppabile, eh? Dov'è? Sì, qua. Craccato. 15 flash qua. 15... Eh, eh. È 140 al red. Red da me è l'ultimo. Ah no, è cato, lì sto scherzando. È l'ultimo? Dov'è? Sì, qua. Se te la pushi, te la fai l'ultimo. Hai il restoro. Hai il restoro. Buono, 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 buono. Ah, mi suoppo il... Ma c'ho il restoro, che ti frega. Cioè, sì, suoppati, vai. No, vabbè, assolutamente. Boh, non capisco perché la gente deve fare ste cazzate, comunque. Quel team là si è trollato la partita per pushare noi. Insomma. Mossa veramente discutibile. Eh, spai, devo mullare il radius, però, mi intiene il game. È zero... È zero colpi leggeri. Fanculo, va bene. Qui dietro. Mi sa camorato quello lì e l'altro team è sotto di noi. Qualcuno sta bruciando. 141. Avete granate, io lo buttate via tutto. Sono in due, almeno. Sì, va bene, va bene. Ma stiamo sopra. Raga, abbiamo la safe sopra. Abbiamo vinto se stiamo qua. Stiamo sopra. Guardo quello lì all'angolino. È morto di safe, uno. Sono in due. Mi fruttarò ancora. Mi fullo. Holdate quelli. Un team sono in due perché uno è morto. Buono? Ottimo team. Craccato, vai. E via, raga. Buono. Easy. Beh, insomma... Cioè, sì. Sì, sì, sì. Easy, sì. È andata bene contro quelli sopra, minchia. Carriata da Davidotti che ha preso il primo Nox Horizon. Vabbè, alla fine era molto facile. Cioè, comunque avevamo... Beh, abbiamo avuto quello della safe. Eh, tocca l'ho, lo tocca. Sì, appunto, aveva la safe sopra là che era vinta. È impossibile perdere. Potevamo manca aspettare. Eh, Nico, ma dovresti fare danni? Eh, grazie Panditz. Eh, Nico, per favore. Eh? Eh, per favore. Cioè, prima veniva tutto vrizzato da anni. Sì. No, Panditz. No, Panditz, aspetta. Vedi, uso Katari se vinciamo. Ma io uso Bangalore. Eccomi Panditz. Perché... No, perché... Vedi, comunque uso Katari se vinciamo. Uso Bangalore e vinciamo. Ah! Oh. Ah! Ma perché mi legge anche la Cadia con i Reassi invisibili? Eh, sì. Ok. Eh, beh, guarda che quei due Reassi, vabbè, in verità non c'era nessuno. Vi avrei restato con qualsiasi leggenda, penso. Eh, camerata in testa. Sudata. Ma no, cioè, eravate... Boh, eravamo in open, sì. Grazie Lollo per i tre mesi di ReSab. Grazie Lollo, grazie per la ReSab. E niente, comunque ste che abbiamo vinto. A noi va male. Non è tanto partire. Facile, no. Facile, facile. A noi va male. Come vi è andata? Come vi è andata? Cosa avete fatto? Grazie, John Brother, per la ReSab. Sì, ma che avete fatto? Grazie, John. Grazie per la ReSab. Ho detto, cioè, male a tante sfacciature, a tante sfumature, a tante sfocature, a tanti dilemmi troncati. Cioè, dipende. Eh, perché Edo ha usato... Edo, ma scusa, cambia gioco. Eh sì, Edo, hai detto che su Minecraft non è bravo, però... Ma non doveva fare il Charizard. Esatto, non dovevi fare il Mega Charizard. Ma tu con Mega Charizard... Cioè, tu Edo hai detto, devo fare un Mega Charizard. Intendevi... Eh, ma un Mega Charizard intende proprio il Mega Charizard o intende un Charizard grandissimo? Cioè, cosa intende? Cioè, secondo me è un Mega Charizard X Mega gigante. Quindi tipo un Mega, Mega Charizard o lo fa piccolo? Ah no, vedi, lui intende grandissimo. Lui intende solamente un Charizard normale, ma grande. Eh, ho capito, ma è un po'... Eh, te lo dì, infatti, vedi? Ma almeno fai quello Mega Evoluto di... Con quello della versione nera, con le fiamme blu, che è fighissimo. Ma non è... Quello non è Evoluto, è Mega Evoluto. Epsilon è underrated. Mega Evoluto, sì. La Y è underrated? Fa cacare. Eh, ma è il design originale che avevano poi in baffa, ma fa cacare fa. Ha tipo due corna in più e basta. Fa vomitare, fa. Eh, ma è una referenza al design originale di Char. Fa cacare, fa. Ma chi se prega della referenza? No. No. Poi se è forte, perché l'altro è drago, ok, ci sta. Però è bello. No. Sì. No. Sì. Zekrom! Non ci credo. Pokémon Showdown to Charizard X Y. Va bene, ti asfalto. Pokémon Go, io Charizard X, tu Ypsilon. Ok. Vedi che ero livello 34. Io ero livello altissimo invece. Ero un pro player. 34 più io, no? Io ero livello 44, mi pare. Ok. Due casse, zero armi. C'è gente all'altra corsa. A queste? Un tanto stabilito. E se ne va. Se ne va. Scende. Scopato. Tantissimo. Mi serve aiuto. Grazie. Bravo. Grazie, lo so. Qua sotto ha trovato una viola. Quella è viola. Qua ha trovato una viola. Sono due viola, quindi, eh. Eh, da dietro, lì. Al mio l'ho fatto a 143. Sono tan fatti, c'è una... È Zechrom. No, è Zechrom. Eeeh. C'è Zechrom. Oh, cavolo. Come faremo ora? Eh, non so. Rishi la mette i veli. Concordo. Concordo. Da piccolo mi hanno scammato, ce l'ho ancora lì. Eh, sì. Ma puoi mettere Pokémon nero con... Ma ho capito, ma c'è... Sì, ma nella copertina c'è il leggendario del gioco. Eh, vabbè. Sì, ma era un bambino stupido. Sei zitto. I bambini non pensano che... Eh, dei bambini non arrivano a capire che dentro al gioco c'è il leggendario che è disegnato nella copertina del gioco. Chi ti dice che ho comprato la copertina, io? Eh. E tu l'avrei scaricato tipo dal... Dal... Dall'R4. Ma è incittato io. Però era... L'R4 ce l'avevo, ma mi era caduto tipo tra i sedili della macchina e quindi non c'è mai più a giocare. Cosa vogliamo fare? Uscire di vincere? Mmm. No. No, 21 e il caricatore. Ti servono munizioni energetiche. Eh. No, secondo me... Cioè, di qua è tipo impossibile. Se smuocco o no? E pushiamo. Sì, ma vogliamo pushare? Ci danno il cazzo, c'hanno le viola. No, mi hanno individuato. Hanno almeno due viola. E secondo me non è fattibile. Va bene, la mia testa suonava meglio. Uno è sceso. Aspetta. Ma uno sta da me, tipo. Sì, comunque. Uno sta ancora sopra. Uno l'ho sentito qua, mi sembra. Quindi sì, l'ho fatto tutto. Quindi, tipo. A quale? A quale, l'ho fatto... Eh, eh... Piccolo dettaglio. Ciao, Timothy. 139 bianco. Alla Watson. Bravissima. Troppo forte. È una situazione veramente antipatica, però. Non mi piace per nulla. Cioè, sinceramente... No, ma c'hanno tutti le viola. Io non ce la faccio. La Watson andiamo. Si abbandona, amica. No, io non ce la faccio. Piccolo attimo, c'hanno tutti le viola da su. Soprò un grutto. Andiamo via, Davido. Eh, è tra 8 secondi che c'è l'acqua. Ah, anche se l'avessi noccata. Eh, l'avessi noccata sarebbe stato molto bello, eh. Perché da lì? Non è servita. Sto ricaricando gli scudi. Ma che è servita, invece? Bellissima pandiz. Bellissima. Ma sono ancora camperati sopra? Sì. Mi sa che sono scienzi. Non ci sono abbastanza me in questo posto. Ma vuoi toglierli con roba? Ma raga, andiamo di qua, basta. Cioè, sono camperati là con Watson. Non si muovono questi, dai. Cioè... Con la ulti pure adesso. Eh, sono camperati con Watson con la ulti là sopra. Che cazzo devi fare, minchia. Con due viola pure. Eh, io andrei di qua. Se vince ti do 4 byte di euro. Va bene. Però... Che non si ripeta mal più, per favore. Sono qua, proprio qua sopra, mi sa. E va bene. Ma quelli là li hanno pushati, questo. Minchia, per fortuna me ne sono accorto. E' un diversivo. C'era bisogno l'altro. Sì, c'era bisogno. No, devo impegnare a giocare. Fidati, fidati. Era per farmare le ische create, Davidotti. Ah, ok, ok. Ma tanto non mi batterai male. Nabbo. Nabbo. Sì, potrebbe servirmi. Io non ho colpi, non c'ho niente. No, io ho energetico. Mi servono quelle là. Che partita di merda. Sì, abbastanza. C'è un emlock con i colpi. Una partita veramente... Quittiamo? Eh, mi sa. Eh, mi sa. L'unica soluzione. Ma quelli sono ancora camperati là? Ma c'è Stryzant? Se qualcuno lo vuole prenderlo, lo prendi. No, non sono più là loro. No. Eh, ma perché li hanno pushati, forse? Ehm. Ehm. Mi sa che prendo l'alternate. Ehm. Ehm. Hanno risponato di state. Boh, ma sinceramente, se chiude verso di là, andrei verso di là. Vediamo. Ma dai, è una partita di merda. Ma dai, è molto divertente, invece. Non ti sembra divertente? Grazie. Cioè, a me sta divertendo molto questa partita. Aspettiamo. No, a me sta piacendo veramente tanto. Molto divertente. Ma se ce n'andassimo? È quello che stiamo facendo. Ma dall'altra parte. Perché dall'altra parte? Eh, c'è la capsula di Bangalore. Molto utile, devo dire, per trovare cinque calci. Eh. No, guarda. Cioè, io, sincero, guarderei di qua. Che magari troviamo quelli di prima. Ma vorrei principalmente vedere adesso dove chiude la safe. Ecco, vedi. Potremmo anche stare a oasi. Abbiamo una safe molto buona a oasi. Cioè, senza volercene per forza andare. Vabbè. Davidotti, craftati il perfora scudi per l'alternator. Craftati anche la corazza blu, io direi. Visto che non sei riuscito a farla sparando. Mi crafto delle batterie. Quanti danni hai? Ho dei materiali. Quanti danni hai? 284, peccato. 263. Arato. Io 312, no. Arato. No, è un po' a 10. Sono una persona veramente tossica. Non dispiace. Non è vero. Non mi dispiace di niente. Io mi sa che mi crafto il casco viola. Come? Che tossico. Bangalore, nuovo che leader è Davidotti? No. No, mi sa di una cosa. Non è una carta di cassa. Spendiamo questa qui, eh? Sì. Sì, sì. Graberata in testo? Sì, sì. Per bucare l'ora di pesca. Finisco questa batteria e arrivo. Perché? Per fare la batteria. Se lo colpisco adesso che è stato responato col radio, vinco qualcosa. Un euro. Provaci, provaci. Ok. Vai? Vai, sei fermo. Aveva Valk, dai, che fallo. Che sfortuna. Pandiz, vuoi sentire un suono strano? Vieni qua, senti che suono strano. Aspetta. Un suono strano. Un suono strambo strano. Strano strambo. Senti? Ma no. Veramente. È veramente. È veramente, sì. È veramente. Sì. Purtroppo, sì. Ma no, ma siamo qua. Il cazzo guidi. Cosa devi guidare? Ma dove vuole andare? Ma sa come si gioca questo? Ma che vuole fare? Questa cassa, questa cassa. Sono indeciso, lo faccio, sì. C'erano anche altri colpi di là. Cazzo, no, adesso forerò. No, ho Avok e Nemesis, più che altro. L'ho buttata via subito. Cioè, l'ho buttata via appena l'ho trovata. Lascio... Ci sono i colpi. Ragazzi, sono volati dietro di noi. Dove? È un solo, forse. Dove sta? Dov'è Pandiz? È quella penale esponata questa balca. Ok. 79 crackati. Qua dietro? C'è uno, proprio qui. Forse va sopra? Sopra l'albero. Oh, ma... Non ho preso veramente l'assist. Incredibile. Non me la fa l'esecution, però sei veramente tossico. Predator top 326 che cerca di nascondersi sopra l'albero. Insomma. Non so. Ma... Hanno fottuto la casa, eh? Sì. 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 Mi hanno rotto pure le barriere. Che antipatici. Quando sono cattivi. Veramente dei cattivoni. Sono entrati. Cavolo, mi hanno colpito. Mi hanno colpito un 38 flash. Corrampart, brutta storia. Rampart e Newcastle. 30 da 30. Brutta roba, eh. Newcastle e Rampart. Brutta storia. E niente, non dovevamo toglierci dalla casa. Vabbè, abbiamo questa. Non c'è da qualche morto, quindi vabbè. Però quella è brutta, non ha le porte. 50 punti. Vabbè, abbiamo l'altra casa volendo, eh, anche. Abbiamo anche già le barriere di Watson. Vogliamo andare all'altra casa? Non sono barriere. Ma più che altro è strano che ci siano ancora le barriere di Watson. Cioè, questo non... Ma le accensioni. Ma ci sono pure quelle di Catalyst. È impossibile. Cioè, questo qua non ha... Non ha piazzato... Questo non ha piazzato altre barriere in tutto sto tempo. Guarda. Oh, ci sono morti. No. Non ci sono morti. Bizzarro. Il brother sta facendo la nuova abilità challenge. Insomma. Che musica ascolti. Rap italiano. Oh, no. Oh, no. Con percorata... Oh, no. Oh, no. Lascio il 2x4, se volete. La rampa è blu. Oh, no. Sono un attimo mutato perché c'è gente che parla. in camera e ho paura di bestemmioni volanti. Ah, capito. Va bene, cosa stiamo? Va bene. Sì, ma va bene. Che partitaccia. Che partitaccia. Ma posso stare? Va bene. No. No. Insomma. No, pandiz. No, pandiz. No, pandiz. Eeeh. Apri la porta. Apri la tu. Eh, la posso aprire io? Eh, certo. Sì che la puoi aprire. Dai, ma che culo, vero. Ah. Che culo. non lo logo e mostro. No. Cioè, nel senso, non ho 12 anni. Sì. Cioè. È stato molto divertente, però, la caberata. Sì. Cioè, sì. Sì. Cioè, sì. Molto sì. Ciao, 20. Sono 6 del 3, rancchiamo assieme. Va bene. Cioè, però, tipo, da dopo, in caso. Che tra poco vado a cena. Ancora esistono. Loulou è mostro. Ma Loulou, da quando ha firmato con la... Suga? Come cazzo si chiama? Bon. Abbastanza sparito. A parte un paio di canzoni, tipo il feat con Riti, Cristo Dio. Ma qua non c'è neanche i ragazzi. Però abbastanza scomparso. No, non siamo safely. Vedete un po' che volete fare? Sì, ma proprio brutta brutto. No, più che altro... Ricarico gli scudi. Arriva l'imbruglione. No, là c'è... Ah, no, pic su di te da... Ma c'è gente alle casse, eh? Eh, sì, sopra. Nessuno adesso arriva. L'ho fatto prendere un colpo? Quello col crabber. Eh. Provo a voltare, ma vanno sotto. Non puoi mocare quelli con l'arco. Sto curando. Top 11 in quinta safe, insomma. Top 11 in quinta safe. Cioè, guarda che cazzo di safe top 11. Top 11 in questa safe, incredibile. Oh, top 10. C'è una a destra. Accado quasi con lo... Oh, zero scudi. No, non mi posso fullare, ho zero scudi. Sto ricaricandoci. Eh, io ho questa cella. Qui? Che palle, Cristo, iddio. Oh, devo fullare piano. Ma c'è gente sotto? Non ho capito. Preso uno. Sì, a sinistra. Ma andiamo da pandiz? Eh, com... Siamo tutti in forza l'anello. Eh, io provo a buscare quelli. 16 flash. C'è un driver che non ho capito. E lo prendo io. Ragazzi, ce la fate entrare, eh? Crackato. Ce la fate entrare, eh? Sì. Io sono dietro a vita. In che senso? C'è un knock lì sotto, però. Non è nostro, vero? No, no, è nostro. Qua siamo sì, qua siamo sì. Sono una batteria? No, no, no. Ehi, beh, però, che cazzo? No, zero. Eh, ok, guarda, 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 guarda. No, no. Ricarico gli scudi. La Bangalore è qua dietro, raga. In solo o là dietro? C'era qua qui sotto in solo. Anche questa in solo, anche questa. È qua in solo questa. Eh, si è arrampicata via. Buono? La Bangalore è qua in solo. Dove avere il raso d'oro, Nico. Eh, spaz, spaz, spaz. La Bangalore sta qua dietro, guarda me. L'ho lasciato. Arrivo. L'ho preso io per smai. Che palle quella Bangalore. Dov'è? È qua, da qualche, qua, qua, qua. Aspetta. Minchia, immagina non confermare di Nemesis. Male male. Eccola. Eh. Qua da me sento gente. Qua da me sento gente. Usce, sì. Il mio castle anche. 120 erano il castle. 52. Zero. Vabbè. No, io dopo la prima partita oggi non ho più sparato praticamente. Riesco a dare un danno, insomma. Situazione tragica. Qua da me anche potete giocare, eh. Di te si pushano dal muretto là. Mia, mia, mia. La calata di se mi sta guardando. One shot la Bangalore là dietro. In solo. Hanno fatto la Bangalore. Crack la Rampart. Questi sono andati tutti dietro il muretto. Qua possiamo stare. No, è arrivando da me però. Arrivando da me. Aspetta. No, le troll totale. Aspettate, aspettate che magari fanno... C'è il ratto di là. Sì, sì, ma si disabilita. Probabile, minchia. Ma tanto c'è Davidotti che caria. Hai lo swap forse? È il team di prima. È il team di prima. Quella dell'ambush. No. No, è l'altro arrivato ora. Insomma. Avevo fatto 160 la casa. Sì, io sto facendo challenge. Gioco con le massi disabilitato. Eh, tolgo Bangalore. Eh? Eh, tolgo Bangalore. Ma no, non per Bangalore. È che proprio ce l'ho disabilitato di mio. Cioè, in sta partita ce l'avevo proprio disabilitato di mio. Non è Bangalore, ha capito? Di che altro non... Cioè... Non li abbiamo mai pushati. Era l'idea di stare dietro al muro per tenerla safe. Eh, sì. L'avete guardato, l'avete fatto e... Ma più che altro, ma fu l'aserato quello da sotto. Io stavo sparando alla rampart, ma fu l'aserato quello sotto. Cioè, non l'avevo visto. Forse là sotto era sotto di me proprio. Era qua. Ciao, Lorenzo. Ma fu l'aserato quello solo. Ma si è bugato anche voi. Ma l'aserato quello lì. C'è stato questo discuito. Eh, ma perché non ero ancora tornato in lobby? Adesso sto tornando in lobby. Ma perché c'è stato il cambio mappa? Eh, perché penso fosse un mio bug. Ma no, è che c'è stato il cambio mappa. Quando c'è il cambio mappa è così. Ma no, Davido. Perché hanno cambiato la mappa. E adesso c'è l'una distrutta. E quando c'è il cambio mappa... Eccolo. Mamma mia. Diamante 1. Cioè, diamante 1, immagina. Argento 1 e i due argenti 2. Male male, eh? Venga, allora. Ma è stata buona. La PS5 la tengo verticale. Sì. A che ora sta? Qua alle 20. Alle 20 vado a cena e poi riattacco alle 21. Esatto. E, 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 esatto. E, e, e. Non me ne frega niente. E, e, e. Non me ne frega niente. No, sì. Si farà così. Se non, se non ci fosse stata cata, visto come nemico, avrei vinto. Possibile. Perché continuavo a fare destra-sinistra nella mia ulti. Eh sì, eri veramente bravissimo. Cioè, ho visto. Ma secondo me, se solo Davidotti fosse salito sul Trident in quella famosa partita su Olympus... Cioè, a me siamo vinto l'embush. Cioè, almeno ci saremmo salvati in due, là, capito? Ma il problema è che questo era lo stesso lino dell'embush. Oddio, che un po' strano. Sì, ma non erano quelli del... Dell'embush? Dell'embush? Quale è l'embush? Quello sotto... delle torre gemelle. Ma non erano imbusciati quelli delle torre gemelle? No, quando l'abbiamo fatto, no. Ah, minchia! Erano loro. Ah, cavolo! Io pensavo, quando hai detto lo stesso team, pensavo quelli di inizio partita, che stavano camperati con Gozzo. No, eh... Ah, ma aveva il Revenant! Aveva il Revenant anche qua? Eh, non lo so. Ma è sicuro fossero loro? Eh sì. Non ho capito di cosa state parlando. Di te, Bandits. Un sword, Catalyst, Newcastle... Newcastle? Eh, per non lo so. Ma c'era Newcastle? Non lo so, la c'era. Newcastle? C'era il Newcastle. Newcastle? Un fatto. Ma chi è che non ha raccolto... Non è troppo un po' di colt. Eh, no, grazie. Nel crafting c'è ancora il perforo. Eh, dovrebbe sparire alle 7, però... No, hanno cambiato idea, l'hanno lasciato. Carabino a qui la lascio. Mia. Ma perché c'è ancora il perforo nel crafting, scusa? Eh, perché è tipo alle 8. Eh, alle 8? Non è alle 7. Alle 8? Alle 8? Cioè, non è alle 7 col cambio mappa anche? Eh, però... Ma forse è dopo questa partita. No, è impossibile. No, è impossibile. È impossibile. Sorry, but... Butter. Ho dei materiali. Sorry, butter. No. Ehm... Davideotti, sfuggi. Fuggi. Che schifo. Che schifo. Ehm... Da qua, da me, tranquillo. Vai, tranquillo. Li distrago io. No, più che altro, boh... Non mi aspettavo fossero lì sopra. Non stavo proprio guardando. Ok, li sto distraendo, Davideotti, tranquillo. Vai, Davideotti, ce l'hai. È che in verità, cazzo, si vedeva pure. Se solo... Li sto distraendo, tranquillo, Davideotti. Come li sto distraendo? Li sto distraendo, Davideotti, tranquillo. Challenge impossibile, conferma Pandiz. No! Minchia. Beh, beh, due minuti pieni per riuscire a confermare Pandiz. Sì, sì. Mi hai fatto bene, Davideotti, grazie. Cioè, cazzo, guarda dove cazzo sei arrivato. Loro stanno ancora al nucleo. Beh. È stato molto divertente, voglio dire. Hai fatto veramente un ottimo lavoro. Sì, sei stato veramente bravo. Da 1 a 10, 7. Così poco. Ma Davideotti ha 0 danni? Eh, so scappato quando me l'avete detto. Cavolo. Anche io non 0. Io mi faccio 19 danni. 19? Davideotti, li senti o hai... Ok, perfetto. Avevo paura, avessi tipo il cotonfiocco negli orecchi. Parla, parla e non li senti. Eh, ma... Scusami, Davideotti, comunque qua ti danno un consiglio. Mettiti in un hotspot e apri TikTok, Davideotti. Magari, non lo so, credo, ti dia una rossa. Mi regalo. Sei morto. Mi senti giro a destra? Ha fatto bene, li sento a destra. Ma ti hanno sentito per dopo volto. Ma dai, ma... Vabbè. Aspetta, aspetta. Sì, ragazzi, ma io dovevo giocare con due persone con 0 danni, dai. Aspetta, aspetta. No, è vero, dai, cavolo. Cioè, veramente. Non ha funzionato, Zeke, la tua tattica. No, veramente. Noi l'abbiamo trastata. Prollato, Zeke. Trollato, incredibile. Colpo suo. Eh, ma l'hai aperto troppo tardi. Vabbè, è... È troppo tardi, vabbè, ma perché c'era stato... Vabbè, dai. Cioè, secondo me, comunque... È colpa di Panditz. Non ha preso abbastanza tempo. Eh, non ha preso abbastanza tempo. Doveva prendere più tempo. Cioè, ne ha preso troppo poco. Il voto passa da 7 a 5. Sì. Sì. Assolutamente. Addirittura 4. Ultima possibilità, perdi questa partita... E niente, non... Vlocca lo sto dilemma troncato. 24.000 euro. Possibile. Oni o no. Hotspot by home mobile. Vai, basta. Giocherò. Ballistica. Bella. Online su PS5. Non sai che giocata... Che non sai che giocata ha fatto l'altro giorno. Davidotti con Ballistica. Due giocata. Sì? Due giocata. Sì, sì, sì. Si è fatto tipo tre volte un 1v2. Sì, ma... Secondo me Ballistica è... Cioè, io nella tier list l'ho messo in TRF. Eh, va bene. Dai, minchia la... No. Sì. Vai, dimmi una leggenda e io ti dico il ranking cui l'ho messa. Ma lì, sì, però, potevi metterla almeno in C o in D. Dai, no. Caustic B, mi sembra. Ci sta. Unicastor, unicastor. Ah. Ci sta. No, ma come? Non è F? Come l'ultima tier list? No, ah. Tier list? Ma quella era la tier list... Quella era la tier list dei... dei sub. Sub. E subs. Crypto. Mi pare in C. Seer. Dai F. No, mi sa che l'ho messo in B, sopra Crypto, mi sa. Ma adesso è un botto del potenziato. Eh, lo so, però... Eh, devo un attimo pensarci. Mirage. Brite. Mirage in C. Oh my god! Ma come? Brite mi sembra in A. Rie... Win B. Sì, Ash l'ho messa in fondo. Non F, l'ho messa su. E mi sembra. Fuse? Rieccolo! Bradi con l'Ari Sub! Grazie. 75.000 kill. Ma non si è leggero, c'è scritto 74.000. È vero, scusami, che ho arrotondato per eccesso. È vero. Cioè, comunque, è sulla strada per le 75.000. Allora, io non mi staccherò dai Spandits. Eh, sì. Io non mi staccherò dai Spandits. Bravo, non farmi... Ma cosa godi? Ma cosa... Cosa go... Ma cosa go... Incredibile. Ma cosa... Ma cosa godi? Ma cosa godi? Mi tocca chiederlo dove è Fuse. Mi sembra in E. Non in F, ma in E, mi sembra. Perché quando te l'ho chiesto io non mi hai risposto? Perché me l'ha chiesto alle Danigiglio. Che è main. Quindi mi sembra consono rispondere a lui. No, ci sto. Li sento. Il mio main o dove l'hai messo? Il tuo main? L'oba? S. Catalyst? S. Catalyst anche S. I main di Pandits? Ma io ho solo leggende fortissime. Tu usi solo leggende meta, sì. Metabuser. Metaslave. Secondo me è muoio. Sì, anche secondo me è... Troppo forte, Juan. Sì, sì. Vabbè, ma Davidotti può farmare i danni con la sua L1? Io più che altro... Tempo che il colpo di radio sparte mi hanno scopato. Ma l'ho stretto con l'L1. Tempo che il colpo di radio sparte mi hanno fatto il 150. L'anello è vicino, 45. Ehm... Andiamo in una casa, barricchiamoci. No, cioè io propongo la fuga piuttosto. Cioè, più che altro hanno anche almeno una blu adesso. Dalla mia porta, amico. Ah, no! Mannagina. Di veramente poco. Non sono entrato. E ti rompo in questa porta? Ciao, Juan. Ehm... Ti hanno rotto questa? Eh, cavolo, Pandiz. Mi sono girato... Ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato, Pandiz, sì. Sì. E 21 anni l'ho fatto. Beh, dai, 21 con l'L1 non è male, comunque. Non l'ho fatto con l'L1. Eh, se avessi buttato l'L1 non avresti fatti 30, però. L'ho buttata, ma non... Ah, non ha colpito? Cioè, ha agganciato, però non ha colpito. Eh, vabbè, allora non è colpa tua, comunque. È colpa dell'L1. Cioè, tu l'hai fatto. Watson l'ho messa in A. Mi sembra... Ah, sì. Basta, giocherò... Secondo me non devi giocare ballistica. Cioè, la vedo proprio come una leggenda non per te. È proprio un TRF. Newcastle? Beh, Newcastle è TRF. Secondo me ci sta. O Vantage, Vantage. No, Vantage è TRF. Ma veramente? Sì, veramente. Ma è utile? No, al pari di Octane, proprio. Ma non è vero. È più utile Vantage di Octane. No. No, non è vero, però... No, è... Non è più utile Octane. Cioè... Ma Vantage ti dirà anche ti dice quante persone sono nel team, che è anche armature. Beh, è veramente utile. Eh, sì, eh? No. Eh, no, sì. Se avessi avuto Vantage oggi, che era la prima partita lì, che ho trollato, pushando con Loba, avessi avuto Vantage, ho visto che erano due, e non sarei morto. Eh, sì. Vabbè, succede. Ma un giocatore oggi è Newcastle. Ma Newcastle è proprio il tuo main... Ah, no, ho cambiato il matchmaking, Angelo. Eh... Cioè, adesso le lobby argento sono difficili come quelle master. Eh, sì. Il matchmaking è sempre uguale. E invece sì, Bandits. Ma non è vero. E invece sì, Bandits. Il matchmaking è sempre uguale, perché si basa sull'MMR e non sul rank. Dai, Nico, a Catarys... Ad argento si trovano anche i fredd attuali. Dai, Nico. Dimmi, dimmi, dimmi. Ad che scopio passi? Bombo. Newcastle? Anch'io. Passo. No, non puoi. E il P invece? Lobo. No, non puoi. Lobo, bombo. Alla faccia da 60 anni. Vintage? Bombo. Concordo. Crypto. Passo. Bangalore. Passo. Caustic. Passo. Octane. Passo. Mad Mag. Aspetta. Passo. Fuse. Fuse, bombo. Lifeline. Ok, sei sano. E Watson? Bombo. Lifeline? Bombo. Mirage? Bombo. Jippo? Passo. Potpino in there. Passo. Dash. Bombo. Valk. Bombo. Horizon. Passo. Wraith. Bombo. Rampart. Bombo. Più di tutte. Passo. No, bombo. Passo, bombo, passo. Bloody, bombo. Balla filet. Sire, bombi o passi? Sire. Un mix delle due. Bloody? Bombo. Revenant? Passo. Che è che manca, l'ho detto tutti, Valk, l'ho già detto. Sì. L'ho detto. Sì. L'ho detto tutti, credo. Sì, l'ho detto tutti. Bravo, ti ricordo di tutte le leggende, veramente bravo. Ah, Ballistic, bombo. Vabbè, ma Ballistic era così chiaro che non serviva a chiedere. Troppo chiaro. Ballistic. Che eleganza. Che eleganza, che billona che c'ha. Sinceramente. Sì. No, ma Davidotti trolla. Davidotti veramente, secondo me, a volte trolla, sì. Lo prenderò? Sì, no, sì. Eh, ma non hai colpi? Allora no. Lo lascerò lì. Eh no, è ormai, però. Cavolo, li rilasciati. Un avoc un po' davanti. Ma, eh. Non lo so. No, dai. Dove sono loro? Sopra. Corrampo. Corrampo. Porca d'ora. Beh, è una brutta situazione, allora. Uno col 30-30 lì puntato. Eh, sì. Ciao, Gallo. Ma si stanno tornando a Pugno. Craccata lei? 54. 36-54. No. 90-10 HP. E io l'ho fatto 82, tu 90 preciso? Sì. E allora già di meno, a 3. A 3 HP. Hanno cata di su, però non possiamo neanche salire. Esatto. Ma questo è rampart. E ora è. Che sfiga. Possono entrare da solo da fuori. Grazie mille. Eh sì, ma un boulder hanno anche fuori. Non so quanto. Sì, sono già all'ound. brutta storia. Peccato. 3 HP, minchia. Niente. Con lo speed far pura. Eh, devo prendere il rampage. L'ho preso. Che schifo, Johnny. Aiuto. Eh. No. Si può salire da qua in fondo, forse? Dai in fondo dai tubi. Sì, che è rottura di cazzo, però. Eh, concordo. Cioè, è molto rottura, però. Se è l'unica. Se non sbaglio, ci stanno già guardando. Eh, sì, gallo. Spioni. Da qua, guardano. No. Io mi occorgo. Sodo. Uno è caduto. Preso uno. Preso uno e un Raidon craccata. Godo. Manca solo l'Ori che era crack sotto. È salita. È sopra. No. Volevo prendermi l'assist. Peccato. Vedi il Newcastle, l'ho? No, perché? Ma non pensavo... Non pensavo... Non pensavo... Grazie a chi ha disposto. Da chi ha pensato? Veramente. Peccato. Avevo dieci di vita. Volevo prendermi l'assistino. La Catalyst non ha visto che c'era il Catalyst più forte d'Italia. Un'altra Catalyst. È molto utile. Eh, minchia. È troppo forte. È Newcastle. È un tipo che ho tirato, mamma mia. Eh, sì. È anche io. Boh, la Rampart con Sheila ha fatto tipo dieci danni nel fight. Eh, a me è 150. Ah, eh vabbè. Allora evidentemente non sparava a me. c'è questa possibilità. Che bello, ora possiamo camperare tutta la partita. Sì. Sì, sì. Io mi crafto il perforo scudi pure. Ciao, Nicolas. Ciao, Nicolas. Grazie per il ciao. Ciao, Nicolas. Ciao, Davidotti. Ciao, Fabri. Ciao, Fabri. Ah, mi devo grattare l'occhio. Eh, oddio. Grattare l'occhio. Proprio dentro. Brutta storia. Aia. Aiaiai. Che ne dite di questa direzione? Madonna. Ma, ma vogliamo... Vabbè, aspettiamo un minuto e venti che chiuda. Secondo... Cazzo, top 18. Cioè, sono morti due team di cui uno è il nostro. Male, male. Uh, l'ultimate di Davidotti. No, di neanche questo. No, sì. Di Newcastle, di Davidotti. Io, boh, sto giocando sempre in Rampage. E non ci sto mai facendo niente. Però, ehm... È irresistibile. Dopo, sono curioso di che livello l'ho fatto. Secondo me ce l'ho tipo al 32. Ciao, Davidotti. Ciao, pandiz. Ma, volete andare per di là? Io andrei a base alfa. Bella, Antonio. Ma, chiesimo? No. Quaresimo? No, però... Sì. Io andrei... Tranquille, le c'è vento in mezzo. Oh, lo scuso. E la... Aspetta che devo farmare le esche create. Non puoi, basta. Suonava meglio. Eh, lo so, ma... Tu, nerdy, le esche create tutto il giorno, che devo fare... E ho continuato a nerlarle anche quando tu sei tornato con me. Eh. Incredibile. C'è qualcuno di qua? Ti seguo, Davidotti o Nico? Ovviamente... Guarda, Davide è forte. Grazie. Eh? Perché non c'è ancora arrivato, Danny? Eh, d'acqua. Lecchi? Io dovrei anche andare a mangiare, in realtà. Eh, ma in verità anch'io, alle 20, però. Eh, io ancora è presto. Eh, lo so. Mi sa che finirò questa partita e andrò. Va bene. Ci sta tanto... Ma sì. Questa partita possono rarmi le 20, più o meno. Sì, più o meno sì. Così facciamo la pausa-cena. Per ritornare al massimo delle forze. Stasera con chi giochi? Con Pandizza e... Boh. Codo. Mi piace la prima scelta. Sì, sì. Onesta. Davanti. Quanto? Tanto. Ravenant è qualcun altro. Ah. Minchia, mi racconta... Il mio scudo vi proteggerà. Eh, c'è un altro team da dietro, ragazzi. Non ha senso. Da dove? Adesso ti torno indietro. Dietro dove? Ah, vabbè, ok. Eh, ma... Ci prendo. Se ne stanno andando, infatti. Ah, ma dalla teleferica! Ma no, aspetta. Siete voi? 45 secondi. L'anello non è lontano. Lontanato. No, al team che era qui sopra, sono andato. Ok. Crackato viola, hitato flash. È tornato l'altro team, ma raga. No. È il terzo loro. Che cosa c'è fuori? Non lo so. Io ho distrutto l'Horizon due volte. Ma è un team solo o sono due? Ma io non lo capisco, 107 di po'. Sì, sì, è un team solo, ma... Ma come un team solo? Eh? Sì, ma non ho capito. Sono arrivati... Boh. Ma... Sì, è capito. È sicuro un team solo, questo? Sì. È peccato, avevo fatto un bel po' all'Horizon, però metà dei miei colpi sono andati sullo scudo di Newcastle. È stato veramente... Antipatico. Bannerei questo mio testo. Eh... C'ho solo una silinga, più che altro. La vedo molto dura. Ok. Potresti prendere dai nostri loot. Credo se ne siano già andati, dai. Spero. Ma è la sicu... No. Ma sei fortissimo. Ma è la prima. Ma è son morto. È la seconda. Sono morto, sono morto. Ma che devo fare, son morto. Eh, non ho più siringhe, non ho cure. Fai la ultimate per rall'esche. Per farmare i tuoi esche, già che... No, no. Donico, però... Ma sai che in realtà forse ti potevi salvare. Come? Con una teleferica. No, con un medikit, sì. Bastava un medikit e mi sarei salvato. Eh, un mico che la troll. Ma vaffanculo, un mico che la troll, la minchia. Nemico individuato. Ma scienziate le chiede. Insomma. L'ultima dell'idea? L'ultima, sì. Facciamo una pub? No. Ma sì. No, ma non è vero. Ma non ci sta a fare tutto il giorno ranked per poi fare l'ultima. No, ne abbiamo fatto forse 20 punti. Ma perché le ranked... Non è vero, Davidotti. Ne abbiamo fatti... Cioè, perdonami. Non ero neanche ad Argento 1 e adesso sono ad Argento 1 166. Quindi ne abbiamo fatti almeno 200 di punti. Quindi non dire... Oh, bagianate. Non dire bagianate. Indovina le mie kill in Battle Royale. 52. Sì. Eh. Eh, ho ottenuto il conto. Ho ottenuto proprio il conto. Mannagina. Spoiler, ne ho più di te. Dove? In Battle Royale. Impossibile. Cioè... Allora, io ne ho 89.579. E ne ho 89.560. Eh, la... Da cavolo, spero di farne una in più di te. Come su Twitch, Lorenzo. Non mi riuscirai. Però l'uso molto poco. Eh? Però... Però ho 5.000 partite. Sono fortissimo. Beh. 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 Non male. Su Mirage ho... Verifichiamo. Non lo uso da un botto. Quindi... Di... 8.500 ne ho su Mirage. Io vorrei capire dove sono le mie kill. Perché ho 16.000 kill in totale e quasi 7.000 kill. Eccomi, scusate. Sono tornato. Cioè, io su Mirage di Kill Note 8.500. Prima mi ha flammato Davidotti dicendo 7.000 qualcosa. Eh, perché l'ultima volta che le hai fatte vedere erano 7.000 qualcosa. Eh, ho capito. Però... Ero 3.178. E poi qualcosa. Che nabbo? E tu saresti me in Mirage? 3.999. Ah, ma io sono mincato. Ah, scusa. Niente. Eh, no. Cioè, sì. Va bene, dai. Oh, my God! Horizon Zero Dawn. Horizon Forgotten Rest. Rovinato. Niente, rovinato. Completo. Niente. Trullato. Basta. Cioè, ormai sei un mid-average player. E volevo vedere. Grazie Nova per la sub regalata. Grazie. Ah, dal carota. Grazie per la sub regalata. Ma comunque è arrabbiatissimo il tuo panda nella fotoprofilo. No, io volevo vedere praticamente. 48 ore su Fall Guys. E non l'hai neanche platinato. Boh. Eh, ma vincere quelle 5 partite di seguito è dura. One Piece World Seeker 32. E tu saresti un One Piece fanboy. Boh. Lascia stare il gioco di merda. 32%. 9 ore di gioco. Mai quello open world? No, 9 ore. 9 ore, sì. Solo 9 ore. No, è impossibile. Mai quello open world, no? Eh, sì. Sì, più o meno. Cioè, sei in un'altra merda. E non è bello? Sì. No, fa cagare. Ah. Cavolo. Cioè, sembrava carino dai trailer. Hanno fatto degli ottimi trailer. Eh, sì. Cavolo, io quando ho guardato i trailer di quel gioco ho detto, minchia, speriamo che ne facciano uno di Naruto di così, anche di gioco. Seba, per favore, non chiedere in regalo le sub, perché ci sono più meglio. Inzeremo insieme, sempre fedeli. Non lo so. Un voto a Davidotti con questo nuovo main? Due. No, dai, tre. Ok. Sono tre. Sì. Dai, Nico, secondo me se porti subnautica in live ci scassiamo dall'esercito. Incarico iussivo. Palese francese. Anche io se l'ho fatto una mia riflessione. Non vedo quale sia il problema. Vuoi sultare di nuovo mia madre in live davanti a tutti? Almeno fai vedere quanta mentalità hai. Tantissima perché stiamo girando. Allora, facciamo un gioco. Si chiama mentalità da perdente barra vincente. Dico il nome di un sub e bisogna scegliere quale delle due mentalità. Allora, bota. Bota, 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 bota. Vincente. Perdente, secondo me. Ma dai, è sempre che piange. È sempre incazzato che piange. Dai. Sì, però poi quando si incazza fa il culo a tu. Sì, vabbè, ho capito. Ma mentalità da perdente non vuol dire che non sai giocare. Secondo me bota c'è un po'... Cioè, sì. È che piange, tutto il resto, capito? È un piacere fornire assist ai miei teammates. Madonna, su un blocco. Sta dietro. Oh my god. È dispossible. Grazie, nuova. Grazie per la sabbia regalata. Grazie, nuova. A chi è? A Zantropos. Che palle. Craccato. Sopra di me c'è uno. Due. Tanti. È vero, sì. 18. Grazie. Chi è che l'ha regalata comunque? Nuova. Grazie, lo buona. Grazie per la sabbia regalata. Chi va con l'inganno? L'anello non è lontano, 30 secondi. Perché sono qua da solo? Tu sei forte, a differenza nostra. Beh, io ho una kill e 300 danni. Io? Sì. Ma questa è una persona, non è un'esca, minchia. Sembrano piccoli. Ma faceva il tuo stesso salto. Eh, l'hai visto? No. Eh. Ah, beh, posso venire anche adesso, che ci penso. Eh, questi sono in due più che altro. Però... Sì, però odio veramente le M-Block, che arma di merda. Cioè, è veramente molto forte. Io ho fatto una bella, sì. Sono in due. Ma fado una. L'ho fatto 32 più a questa solamente. Eh, one shot, quasi. 43 flash. Eh, uno di vita. Easy, Davidotti. Attento all'altro team. Arriva l'altro team, scappa, scappa, scappa. Non restarmi, vai via. No! Mi sa che non ti resta. No, cavolo, non mi resta. 43 flash e me l'hanno pure rubato. No, ah, te l'hanno rubato? Sì. One shot, one shot. E 53 di vita. Ho capito, dai. Cioè, Davidotti, dai. Cioè, Davidotti, dai. Cioè, fagli 45 allora, dai. E più che altro l'aveva colpito... Quanto gli avevi fatto tu, Pandit Salavrit? 50? 30, tipo. Ma tu hai detto 50? Ho fatto un cazzo. No, impossibile. Non dico mai bugia. Ti giuro. No, te lo giuro. Aspetta, sento la clip. All'avreto fatto 90. Poi è pushato convinto. Eh, cavolo. No, io sì, cioè. Che scasso. Eh, però Pandit Salavrit è a terra, cavolo. Cioè. Io pensavo fosse a sinistra. Eh, sì. Guarda. Cara. Bella, it's Pandit. Bella. Bella. No, non te. Cioè. Dai. Ma hai detto it's? Non it's. 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 Secondo me dovresti cambiare questa skin. Poi... Ma è l'unica che ho. Fa cagare. Ma normale non è l'unica. Beh, avresti anche qualcosa. Veramente brutta, ribriezzo. Siamo stati grandi in questo round. Eh. È una bella giornata per eliminare... Secondo me... Cioè, Pandit dovrebbe mainare Caustic. Ok. Ok? Ma attanto, c'hai le 20 bombe e manco le usi. Perché giochi i Catalyst? Perché so di avverda, quindi mi sento più potente. Quello là c'ha 40.000 kill solamente di carabina. Cioè, sono veramente tante, se ci pensi, eh. Sì. Eh... Fai conto che 30.000 non le ho in totale con tutte le leggende? Sì. Con tutte le ore. 40.000 kill di carabina penso che abbia circa 170.000 kill globali, almeno. O giù di là. Porcaccio. Sì. Tu quant'è un amico? Io 90.000. 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. Penso almeno 150k sicuro. Porcaccio. Cosa? Cosa, Tommy? Porcaccio. Chi o cosa? Tu. Sì. C'è proprio un porcellone. Lo so. Ho un P-20-20. Sì. Beh, è una. Eh sì. No, una. No, no, è una. No. Sì. Non ha sceso nessuno? Eh, non lo so. No. Infatti, guarda dove sono. Bravo, eh. Non lo prendi? Non ne hai visto dove sono? No. Ma sei un pazzo. Eh, allora lo prende Nico. C'è anche il 2-4 qua, Nico, eh. Per il Radius lo prendo, sì. È che avevo il Sentinel. Mi diverte, però vabbè. Ma no, Radius è molto meglio, perché Radius spara. Anche... Sì, anche il Sentinel spara. Però... Non è vero. Sì, trovate... No, un R-99 l'accetto. Eh, l'ho lasciata lì vicino al... No, 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 no. Ho trovato l'alternator, grazie. Eh, c'è più che altro. Andiamo a gola. C'è un bugiardo. Non c'è. Vuoi la gola? Andiamo a gola. La gola di chi? La gola di... Di... Il Perfora Scudi non lo prendi, Nico? Eh, lo devo craftare? Ma no, l'ho appena trovato. E come hai fatto a trovarlo? Cioè... Come hai fatto... Cioè... Cioè... Ma, son crashato? Sì. Come hai fatto a trovare... Cioè, il Perfora Scudi. Veramente... Perché no, si può trovare nel bottino a terra. E dove l'ha trovato lui? Nel Tic Bottino. Ah, nel Tic Bottino. Ok. Allora ci sta. E allora ringrazio. Ma no! Sì. Cavolo. No, secondo me non sei crashato, eh, Panditz. Gli facciamo una burla e lo buttiamo nel vuoto. Ok, no, ma si sta muovendo. Ah, cavolo. Allora non è crashato. Ma dov'era il Perfora Cazzi? Eh, l'ho preso io. Ma come? Sei serio? Sì. L'ho pingato. Ma tipo dirlo che ho fatto tutta la strada indietro? Eh, l'ho pingato. Non c'è bisogno di dirlo. Ma tipo dirlo che ho fatto tutta la strada indietro per raccoglierlo? Ma tipo dirlo che ho fatto tutta la strada indietro? Cioè... Tipo dirlo che ho fatto tutta la strada... Cioè... E continuavo a farla e... Sarebbe stato... Sarebbe stato simpatico saperlo prima e... Però vabbè, dai, va bene. Grazie Emanuele per la sub. Grazie Emanuele per la sub. No, sub, sub, sub. Nuova sub. La sub che poi farai... È nuova, nuova. Premi nel link per entrare nel gruppo. Ciao, mango. Io andrei a Gula, perché a Gula mi posso craftare l'al... 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 Perfora... Sì, per Nitor, scudi. Ho preso il perfora scudi. Eh sì, lo dovevo prendere io. Cioè Pandit se l'aveva pingato per me. Cioè aveva detto... Ti ho pingato il perfora. Non ha detto... Cioè... No, perché ha pingato il perfora prima di dirlo. E io già l'avevo... No, era per Nico, io l'avevo detto. Appunto, stanno craftando davanti a me. Riuscite? Va bene però l'al... No, non lo so. Dove cazzo c'hai, Nico? Eh, devo craftare il perfora, ve l'ho detto. Però c'è un team qua. Eh sì, l'ho detto. Tante volte. Ma Pandit se l'ha crashato. L'ho detto più volte. Ma era crashato. Gli ho avvertiti del nostro arrivo. Ok. Gli ho spaventato. Ma fai tantra di loro. Sono lui. Che cosa simpatica. Ma non è una persona la stessa squadra. Eh no. Però non c'è il fuoco. Oh, mi volano in faccia, aiuto! Ma invece no, si è spaventati dalla mia aura. La... Chi è l'aura? È la mia ragazza. Come vanno? 129 bianco a Watson. Minchia. Grazie. Minchia. Minchia. Mannaggia, oh! Vado a craftare... Sì. Oh, va a craftare. Non piange. No. Presa Watson. Però vorrei dare un colpo, perché così divento blu. Qui. Però ho confermato la collage. Vabbè, io mi sono evoluto. Che è quello che volevo fare. Nico, allora lì c'è un panacchellare. Dove? Tranquillo, pandis... Ci pinza, Nico. Ma l'altro team è dove è caspita andato? Eh, non lo so. Ha risponato il tuo. Diccià. Senza te. Molto rapidi. 39 Valk. No, è una sola. Siete da soli, eh? Non... Cioè, io sto arrivando ora. Sto morto. Craccata la Valkyrie. Da me? Vai, vai, resta. Oh! Ma questo qua, infatti, che cazzo d'arma aveva, oh? 30-30 in close mi ha fatto sti danni. O gli è entrato un HS di lombo, boh. Comunque, che culo la Valkyrie è entrata, tipo, e adesso è trovato lo soppro blu. Raga, è pieno di batteri, pieno. No, che culo... Boh, che culo loro, minchia, veramente. Cioè, questa qua... Insomma. È pieno di qualsiasi cosa, hanno tutto, questi. Pronto, adesso, Viola, mi salva l'energetico. Lascio, Pk, con un attiratore, Viola. Minchia, ma stai scherzando? Ma davvero? Ma è del mestiere? Ehi, forti, però? Ehi, caro, carissimo. Qua ce ne sono anche. Ma invece è un... No, no, sono questi, grazie mille. Va bene. Un bellissimo caricatore sniper, invece? Per il mio radius? Bellissimo, in che senso? Ciao, pesce. Bellissimo, che ti serve un sacco. No, uno bello, tipo uno Viola, o oro. Ah, ti piace il Viola? Sì. Allora facciamo il Master. Eh, sì. Oggi. Ma c'è, più che altro, tra poco arriviamo a oro, che è l'ex rank di Panditz. No, arriviamo a oro. Panditz è ancora tanto da fare. Eh, vabbè, ma Panditz gioca da poco, sta migliorando piano piano. Beh, dai, scorsa season mi sono impegnato tanto, ho fatto l'oro. Esatto. Scorsa season, appunto... Aspetta, però, oro 4, oro 3, oro 2, oro 1. Fate attenzione, ragazzi. C'è che non mi ricordo, ma credo proprio... Eh, c'è che no, uno? Uno? Oh, eh, oro 1? Forse, non lo so, eh. Non lo so, non mi ricordo. Sono indeciso tra l'uno e il tre. Eh. E il due e il quattro. Oddio, ma Davidotti ha fatto un goal jump? Sì. Ma che lo so fare, Nico? Guardami. Non ci credo. Vai, vediamo. Guardami, Nico. Ti sto guardando, vai. Cavolo! Era fatto meglio di quello di Davidotti, eh. Eeeh. Ci siamo. Eeeh. Bello. Grazie. So fare anche un altro trick. Cioè? Guardami. Scivolo, guardo l'indietro e mi rigiro. Io non ci riesco. Oh, è difficile. Eh, questo... Questo è difficile, sì. Io, Andrea, questa casetta... Andiamola giù. Cioè, una casetta. Ti piace. Quindi bisogna andare alla casetta. Me gustas, me gustas tu. Me gustas la marijuana, me gustas tu. Ah, sinistro. Sì, ho sentito una zipline. Davvero? Con che arma? Non è una zipline, è una teleferica. Eeeh... Sulla zipline. Sono scesi. Ce l'abbiamo davanti. Sono scesi. No, pandezio, non me la sento. Prima vorrei, almeno il caricatore del radius. Allora, intanto mi alleno con il wall jump, che già adesso... Oh, bello questo! Oh, no, vabbè. Mi stanno figtando qua. Guarda che wall jump, Nico, su questa roccia, te lo faccio. Vai. Eeeh... Parkour. Il parkourista. Secondo me la trolliamo per pushare questure. Eeeh, c'è uno one shot sopra quelli che volano. Come lo sai? Eeeh, ho visto tanto sangue. Ah. Cioè, troppa gente, no? Non conviene. No, secondo me non conviene. Non c'è una gente anche qua. Facciamo il giro di a sta montagna? Sì, secondo me facciamo il giro. Cioè, perché onestamente a me non mi gusta questa situazione. Sì, comunque. Ti compro, Nico. Tranquilla. Tranquilla. Top 12, grazie. Beh, sarà già presa la casa, però proviamo a scomperarla. Ah, va. Secondo me, no. Questo avevo fatto i 4K con Newcastle, Nico, ti ricordi? Ti ricordi, è vero. È vero. È vero. Ma ancora a zero caricatori? Mi saluti il signor Panditz. Ciao. Cioè, a me c'è qualcuno camperato qui, io ho paura. E io vorrei trovare il caricatore sniper. È veramente noioso dover ricaricare ogni quattro colpi. Camperiamo? È quello che stiamo facendo. Eh, lo so. Distanza ravvicinata. Andiamo da questa parte. C'è gente, mi sa. Grazie. Anche l'altro. No. Ne vedo qua, ne vedo qua. Un nemico laggiù. È full team, mi sa. Dentro a barricata. Uno dei loro laggiù. Sì, è full team. Uno è qua che cross in open ora. No, no, no. Ma il dietro. Il dietro è una tutta natata. È qua dietro, lo deve crossare. È che di radio se non lo colpirò mai, però. L'altro è andato a sinistra, invece. 73 blu. È 49 io. Sono in due, a destra. A destra in due, è sicuro? Eh, da qua non ho pick su nessuno. Ah, l'altro team è morto, è morto. Venite in safe, venite in safe, venite in safe. Quello muore, quello muore, lasciatelo. Prendiamo la casa, riprendiamo la casa. Eh, l'hanno preso. Sì, 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 sì. La parte centrale della casa l'ho barricata. Eh sì. Non perdiamo la casa. Che ce l'abbiamo buona. Vabbè, dai, già la bungalore ci sta. Vicinissimi, qua sotto. Eh, esatto. Qua sotto. Non è full team, secondo me. Però almeno due. Ma è sopra uno. Nico, non c'era nessuno sotto. No, no, ce n'è uno, ce n'è. Oddio, come mi sono salvato. Crackato il pat. Preso uno full red. Crackato uno e uno knock. Preso pass. Presi due. Minchia, ragazzi, come non mi hanno ucciso non lo so. Non lo so. Ma questi qua non mi sembravano del mestiere. E invece erano red. È triplo red quello. Insomma. Non ho capito. Eh, ho preso io il resto d'oro, per sbaglio. A 108 motri. Boh, non ho capito questi che hanno combinato. Grazie del resto dorato. A tutti i tre, tra l'altro. Ma se fondavo il volto, lo prendo. E no, quittato, ha quittato, ha quittato. Ma cos'è questo bellissimo rumore? Eh. Ah. Un bel cane. C'è anche da uomo. Quale l'ultimo cos'è? Visso. Ehm. Ci guarda. E' un algrish. Beh, viola? No, bravo. No, ti hanno individuata. Beh, in solo? Boh. Mi so di sé. E' un algrish. E via. Tiro il piattello. Tiro il piattello. Mi sento acro. Ma ragazzi. Occhio, occhio, occhio. Teniamo qua, teniamo qua. Qua davanti, full team. Eh, abbiamo anche il team adesso, però. E' un po' di cazzo. Eh, qua dietro c'è un safe. Ma quello dove cazzo è? Ma quello è lì so. Allora, ho hitato qualcuno blu. Knock. God. Hitato l'altro. Raga, pusciamo questi? Ok. Eh, sto guardando un attimo anche qualsiasi. Rinocato uno. Raga, dovete pusciare. Bravissimi, manca l'ultimo. Fate veloci. Arrivo dietro. No, un altro team. Come un altro team. Prego uno di quelli sopra. Provasci. Io ho knockato il mio, l'ho rinocchato. Ho knockato uno dell'altro team. Non dovrebbero rompere. Smocca, faccio Phoenix. No, non è vero, raga. Ok. Ho distrutto la Valk. Puoi provare il raso? Buono. Ho trovato mezzo. Ci ho provato. Ma il mio l'hanno restato due volte, raga. Anche sì, era un ibar. E l'hanno ucciso. Pusciano. Minchia. Bravo qua. Mermedi. E' stupidissimo, è stupidissimo, è stupidissimo. E' stupidissimo. Bravissimo. Ha sparato a tutte le esc. Ho ristorato. Staccati. Balla Marco. Ce l'ho safe. Sì, sì, sì. Vabbè, chill, chill. Vabbè, lente. Certo, iniziava a sparavalli ischimi e basta. Qua davanti. Preso. Veramente buono. Caccato l'altro, è stato flash. Ma perché la batte? Rimannaggia il cazzo. Caccato l'altro. Caccato l'altro, è stato flash. Qua dietro. Caccato l'ho dato con stai cazzo di smoke. Ma vabbè. Finito le batte, ne avete un po'? Non ce la posso fare. Cazzo. 120. A casa. Ok. Non era Catalyst, era Horizon, ma ho capito la call. Va bene. One shot. Davanti a me la Catalyst, veramente, adesso. Scopatissima, scopatissima, scopatissima. Buono. Preso. Sto ricaricando. Sto ricaricando. Sto ricaricando. E' venuto in solo, mi sto. Ed è qua, tipo, no? Andiamo lì. È andato a morire di safe, che stronzo. Da, devo dire che come ultima partita... Molto bella, sì. Che stronzo, però, andare a morire di safe. Spoiler, lo faccio anch'io. Comunque, bellissimo, come tutti, hanno puntato sempre a me. Sì, a me non ha mai sparato nessuno in sta partita, tipo. Sì, a me non ha mai sparato nessuno in sta partita, tipo. Sì, a me non ha mai sparato nessuno in sta partita, tipo. Sì, a me non ha mai sparato nessuno in sta partita, tipo. No, sì, io ho fatto veramente tanti assist, invece, Pandits. Cioè, ne ho lasciati veramente tanti one shot, tanti, tipo. Però, vabbè, tutto sommato, vedi... Cioè, sì, l'importante è vincere. Assolutamente. Molto bella come partita. Grazie, Tarlo, per la sub. Grazie, Tarlo, per la sub. Premi nel link per entrare nel gruppo Telegram. Non è Carlo, è Tarlo. Tarlo, non Carlo. Sì, ma poi non si capisce mezza parola di quello che dice Pandits. Abbi rispetto ai favori. Eh, perché lagghi. Scusa, ma il bonus posizionamento? Non esiste. Cioè, è il bonus, bonus, è normale. Nico, però non hai detto tutto. Quanti punti hai fatto, scusa? 395, però. Bonus eliminazione, 235. Bonus posizionamento, 1. Bonus abilità, 9. Io ho fatto 494 punti. Io ho 523. È grande. Mi sa che, Davido, ti ha il bug. Mi ha dato uno di posizionamento. Eh, appunto, hai il bug. Non prendi i punti di posizione, forse. No, Nico, devo dire una cosa importante, per favore. Dilla, dilla, vai. Grazie, Tarlo, grazie per la sub. Entra nel gruppo Telegram tramite il link. E manda la richiesta di amicizia a NicoMyGod. E se vuoi anche a me, Xpandiz, e noi te l'accetteremo. È offerta esclusiva. Un divano in omaggio. Davvero? No, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non mi è arrivato mai niente, uno scam. Eh, 30 divani, biff. Beh, oddio. Ma vabbè, dai, è stato tutto sommato divertente. Le ranked sono state carine oggi. Sì, dai. No, sì, state carine. Beh, dai, teammate, ovviamente. No, sì, dai, abbiamo vinto delle partite. Fatte partite carine. Abbastanza kill. Vabbè, due. Qualche top due, qualche top tre. Un po' di kill abbiamo fatto. È stato tutto sommato abbastanza divertente giocare in ranked. Dopo pub. No, dopo ranked ancora. Ranked. Chi cazzo le fai? Le pub sono più difficili. Chi cazzo le fai le pub? No, se Boku... Non ha senso fare le pub. No, no, non ha senso. Ciao, ragazzi. Non ha senso. Non c'è senso. Buon appetito. Ciao a tutti. Ciao, chat. Buon appetito. Facciamo i cagasotto e giochiamo la modalità più facile del gioco. Le ranked. Sì, stacco ora. Sì, stacco e riattacco alle 21 e qualcosa per dopo cena. E dicevo, cosa volevo dire? Non mi ricordo. Niente. Cioè, se non me lo ricordo non era importante. Penso. Di solito funziona così. Sì, sì. Sì, alle 21 ore anche da... E oggi, boh, spero almeno tipo... Oro 3. Vediamo. Basta che non fai poligono a start live. No, si fa una deathmatch. Una deathmatch di riscaldamento. Non poligono per due ore. Ma poi quando cazzo lo faccio poligono, ormai faccio le mixtape di riscaldamento. Va bene. Ci si vede. Buona cena. Ciao.